Siamo in live in teoria. In teoria sì, fino a quando non muoveremo. Speriamo che non abbia venito la live vecchia a questa, che se non aveva la seccatura. Anche perché sono due cose completamente diverse. Appunto. Quello puoi ascoltarti. No, è nuova, è nuova, meno male. Sì è nuova, sì sì. Sicuramente le... Ecco qua. Ecco qua ha cominciato a arrivare il commento, mi sa. Sì! Ancora il Pescape sì, dice. Ma che non mi appaiono i commenti però? No, io ancora li vedo, eccoli. Non mi appaiono i commenti. Ah ecco sì, adesso ci appaiono. C'hanno avuto un po' di ritardo. Sette spettatori. Sette spettatori, otto spettatori, stanno crescendo, sì. Evviva, è stata partita la intro perché dovevo farla iniziale ma mi sono sbagliato E detto che prima siamo iniziati col terzo, adesso facciamo il 2 Esatto Ciao SuperMarco Ciao EdiLipovac Ciao Pippo Barracchetta Non sei sempre presente, prima non c'eri credo Oddio forse c'eri ma non me ne sono accorto E' stato preoccupato a urlare Già parte SuperMarco, sei contenta? Eh ho visto, l'ho visto, l'ho salutato infatti E vedo scimmie Bene Esatto Le schimmie Ecco la gente già sta arrivando più numerosa di prima Perché prima quanti erano? No, è riuscito ad arrivare anche a 35 e tutto Però Ma qui hanno stanno cliccando più in massa di prima Dai fai indovinare la persona che fa il Perscape 1 E non lo so Non lo so E beh dato che stai facendo Stai decrescendo con questo gioco Il prossimo sarà sicuramente Ipscape 1 Ciao Alex Buster Perché sto guardando un vecchio con dei pantaloni? Perché qualche vecchio stiano in mutande? Che cosa stai facendo? I pantaloncini da soli non avrebbero dovuto superare il limite di peso Ma io perché non lo conosco bene il gioco Quindi figurati, questo per me è tutto nuovo Ciao Red e Chantal Ciao Alexander Ciao Alexander Da Orange è contento che dice che è uno dei suoi preferiti Sono contento che tu sia contento Orange Però haha io ce l'ho in italiano E poi su PS4 ha messo la versione del Regno Unito in inglese Quello di più poci Il passato ci ha procurato grossi problemi Quando le scimmie indossano quei caschi Ne combinano di tutti i colori Aspetta davvero i protagonisti mi sembrano davvero di Let's & Go Sì Ah c'è la baby scimmia Perché c'ha le alette? Boh io e per schiavitore ci ho giocato tre volte Ma mai finito neanche una volta Credo che ti sia mai avvicinato alla fine qualche volta Ma non mi ricordo Ciao Red e Carlo Ciao Red e Carlo Devi recuperare tutti i caschi per signi Prima che il professore torni a casa Anche lui sempre è presente Esatto Dai cosa hai fatto di bello tu oggi Chantal? Cosa? Cosa hai fatto di bello tu oggi Chantal? Ho risposto sempre al forum Ho fatto un po' di attività per Se no se sto sempre a poltrire non va bene E poi commissioni in casa Così mi sono guadagnata qualcosa I glitch Un attimo cosa devo impostare Natsumi che fa i versi mi fa morire Uno dei miei giochi La mia infanzia Il tuo Io non ho mai giocato a pokemon Te red nemmeno Ho giocato solamente al rosso fuoco Posso dire che è il mio preferito perché è l'unico che ho giocato Quindi In questo senso sì quello è il mio preferito The orange già si propone per dire che ti darà un po' d'aiuto in caso Ah ok Ma qui mi dice che ha aperto Firefox ma non è vero Ciao Gio Giovan Uno Vabbè Sti nomi Ma sta ancora glicciando Cosa? Ma che fosse un pochino gliccia Vabbè che se ne frega Nulla di grave E questo gioco qua è uno di quei giochi che prima glicciavano Adesso andando un po' corretto Il mio preferito è per te Dani Boh L'uno perché è quello che ho giocato da piccolo Scatenati E cattura tre schimmie Se non ti scateni non puoi catturarle Ricordatevi tutti Odiate le schimmie Viva le schimmie Ci vuole qualcuno che legga anche le fanfiction in chiamata Dov'è GJ? Eh Come minimo arriverà a mezzanotte Eh Lei ha detto mezzanotte Che bello L'orario migliore proprio Per presentarsi Adesso che sono l'orario Secondo me se ne vanno tutti E verranno qui a mezzanotte solo per lui Ciao Flavio Bentornato Ciao Ora facciamo questa zitta questa Che rompe il cazzo Zitta Figmi e catterate Cercati qua che sembra tipo una 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 non so Una sorella rompipalle Sì credo che sia quello lo stereotipo dai Cioè stereotipo Ma quello Anche sì la sua sorella né di Spike né di Jimmy Sì ma sembra la classica sorella rompiscatole Hashtag Ho mai giocato a Kino Merz Ho giocato a Kino Merz 1 da piccolo Finito al 100% Tranne che per un bug Che mi impediva di prendere Un cane E per questo basta Ah è quello del Game Boy Ho portato più volte il 2 Ma non sono mai riuscito a farmelo piacere Dove ricordarmi un po' Le differenze da questo e il Pescape 3 Ma credo che questo è semplicemente Pescape 1 HD E poi in realtà non HD perché 3 session 2 però Vabbè a quei tempi HD tra virgoletta Con la grafica migliore diciamo Una sola Non un remake Ma un seguito Che non cambia niente Poi magari mi sbaglio io Però La sensazione è quella Ragazzici Ciao Pivo Barracuda Poi quando arriva DJ Continuiamo avanti Revenge of Kim Piccolo Con le mod Che ieri stavamo tutti quanti morendo Sì 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 Quello serve Grazie grazie Sono veramente uforico Ah Bei tempi Ciao Denise Messaggio subliminale Spike dice EA Ma dice EA EA Dove dire Ubisoft Non c'è problema No neanche qua Non è ma come Dove dire Sony 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 Vabbè Un messaggio subliminale Un elogio Alla EA 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 Sports To the game Quando a volte giocava Harry Potter Mi appariva quella roba EA Sport proprio Bello sport Eh appunto Appariva quella scritta E giocavi Harry Potter Ma non credo di se EA Sport Per Harry Potter No no te lo giuro Te lo giuro Ma che Harry Potter era? I primi Della PS1 Ah I primi due capitoli Sì però è grave questa cosa Però erano carini eh E poi è sport Niente di bello Ragazzi vi seguo dopo il tempo di trovare il B e B qui alla mezza Termea dopo Ok Pippo ciao Ciao E non mi apparsa sul suo schermo quel messaggio forse forse ti arriva avrà un po' Che arriva un po' dopo Ah il bed and break Ah Allora è stata la faccia che mi arrivava un subito Ciao Lo sport della magia dice Super Marco 2001 Ciao Guido Pavesi Dai spesso mi si che non metterò mai altatura quello che ha scritto Nemmeno io Ho letto solo DJ e basta Ah c'è scritto DJ è vero Sì È qualcosa contro DJ probabilmente Ma è vero che si dava un sacco di roba inutile EA Games diceva di uno non gli esports Hai ragione orange sì è vero Eh sai mi confondo mi confondo spesso ma hai ragione Tra lo sport games è simile no Beh era il logo era simile in effetti Ah beh è sempre yay 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 Ah è più rilassante questo gioco qua di lifeline Io c'ho ancora male c'ho ancora la gola tipo Ah da prima Shoot shoot Reload shoot Eye left eye Right eye Che gioco stressante Eh sì infatti Non credo che sarebbe un bel gioco da portare in live Ma è da totale in live è divertente perché appunto è sicuro Divertente Io mi sono divertito anche se appunto mi fa mai la gola Eh Ma sì ma le live sono fatte anche per le cose stupide Ciao David Best bentornato Ciao David Porca I fail di Chantal anche per questo l'amo dice Marco Ma io sono un essere umano qualsiasi essere umano fai fail Infatti Nel spray something ha messo un'altra roba di google traduttore scrivendo Chantal alla fine È una cosa contro Chantal re A me quel loco mi faceva paura da piccolo Ma come paura A me piaceva Ok Eye games Vabbè io da piccolo avevo paura della voce di Uka Uka Che era bella profonda Insomma Eh più o meno Uka Uka che dice Eye games Eye games Eh sarebbe forte però Non accadrà mai Sì anche perché Sai come C'è un cazzo Per fortuna Crash E' più forte Robocop o ametista Direi più ametista Animali Super animali Super animali Animali E' per questo che divideva ammazzate Perché failate No Ti piace il Joker E' un bel gattivo Credo Sì io lo adoro il Joker Teoricamente adoro tutti i cattivi di Batman Che sono stupendi Proprio con una ragione per cui Agiscono in quel modo Eh si sembra che sono un po' più realistici dei Batman che per me c'ho l'audio basso Un po' più realistici degli altri super cattivi Sì perché alla fine è super Batman Quale cattivo ti ricordi? Mi ricordo solo uno che era pelato e basta L'ex Dutor Sì sì quello Guarda ti sono arrivati i giochi Ma che giochi scusami La Gli angelo Ti dovevano arrivare dei giochi Ma a quanto pare Me li hai spediti a casa E voi non avete idea di che figo è E per Skype 2 è fluidissimo Suo emulatore in questo momento qua E quanto è brutto vedo il suo OBS A 20 fotogra... No a 20 fotogra... Sono 30 Però comunque sono molto meno No si vede benissimo Ciao Don Angiuno Ciao Qual è la vostra host preferita? Qual è la tua host preferita di sempre Chantal? Oddio è molto difficile Adesso sono presa con persona 5 Quindi le host è lì Però vediamo Forse quella di Baionetta Che mi piace sempre ascoltare Moonriver O Fly Me To The Moon Quello è bello Mi piace e piace sapere dove devo andare Qui no È una bellissima host Sì è la migliore host Sapere dove devo andare Host boh Non lo so Non mi sono mai posto il quesito Anche perché è difficile scegliere A me difficilmente scelgo cos'è il mio preferito e cosa no Come cazzo si scendeva? A me so c'è il tutorial Non mi ricordo Ah con la logico Super Marco dice No Uka Uka direbbe Ehi siete deficienti Stupidi Incapaci Eh ma non è Quello Uka Uka non c'ha la voce profonda come gli altri È vero È la voce di Aku Aku Ehi ehi si distordi Ciao Crimson Su PC S2 si gioca online con qualche serve non faccio mai che io sappia boh Toh ti ti mangio scimmia guarda Vai Da 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 grazie gamer 2 Toh ti fate Ah ok perfetto ho sentito bene Ma no, io credo che si possa giocare online solamente con roba che aveva già i server e magari sono stati riaperti L'unico che mi viene in mente è mettergli online, ma è l'unico Ti piace Shinjeki no Kyojin Aspetto peggio magari Lo guardo, non è che mi fa impazzire, però dico ok va bene, è innovativo, insomma qualcosa che non si era mai visto Solo che la trama, da quello che so da una mia amica che è molto più fissata, si sta complicando moltissimo E credo che non ci capirei un cavolo Io lo devo guardare ma non ce l'ho mai, scazzo So che il manga è ancora in lavorazione di anime Però stanno mettendo delle cose interessanti, tipo vabbè non devo fare spoiler Infatti evitiamo spoiler Anche magari pure io devo guardarlo, no solamente gli altri Eh esatto, esatto E vuole se erano gli spoiler nei commenti per forza Sarà automatico Palle sticosi Cosa vuoi fare che io vado lì per le vite e tu mi dai il fringuello o ananas Che cazzo me ne fotte Uka Uka insulta Cortex e Ko ma Uka Uka non fa mai un cazzo per aiutarli comunque Sì è vero ma è una classica cosa di super boss Prendi Atena dei Cavalieri dello Zadiaco Non fa un emerito cazzo Non si schioda da quella cazzo di sedia È una dea, non fa un cazzo Uka Uka uguale Non fa un cazzo È una legge dei grandi numeri Praticamente i boss Quelli che hanno il potere Non stanno sempre lì e lasciano fare agli eroi O ai cattivi È vero Perché io non sono in capo Di attattare Ve lo spiego io I titani sono i miei cani Eh? Ha detto che i suoi titani sono i cani In che senso? E penso che magari o saranno dei colossi Di quei cani di grande razza Oppure Saranno Saranno bizzarri Capito che sia la seconda Da prima che hai detto È provato Oppure ha detto totalmente a caso Perché è una frase random Anche Anche Ma Katie a me sembra grassa Non so di che parla Katie sembra grassa In che senso? Ah perché Ma è lo stile di sto gioco qua Ha fatto i personaggi più grassi tutti Mamma mia ma perché Mi arrivano pochissimi Commenti Nella chat box Eh ma Non è che sono molti eh Qua te l'ho detto Il sistema Che te lo mostra Insomma Ci mette un po' Per mostrarteli Arrivo dopo Vado a mangiare Saluti Ciao Crimson Ci sentiamo Ciao Uka uka e gj Ma jime ingadire per il duplice omicidio Che ha jime Jime? Boh Non è che quello di Attack on Titan Eh può essere No perché io i nomi degli autori non li conosco Quindi cioè non tutti Però Penso che sia quello Insomma ne stavamo parlando Ciao Babbeo Natale Smette di mangiare o di bere Saluti Babbeo Natale Snimali ma che stai scrivendo E vabbè è sempre lui no Si diverte Snimali Ehm Attento Yangelo che magari la persona americana In primo luogo non deve essere usata quindi è Attento In secondo luogo Non sono sicurissimo Che funzioni bene Con quella pal C'è già quella pal A connettersi a cui serve Di altri pa... Di altri europei C'ha problemi Se si apprende quella Quella normale Meglio Comunque sì Praticamente era il creatore Quello che diceva lui Vabbè ma è tanto in Italia Colunque ha avuto l'idea Che poi da quello che mi ha detto la mia amica L'idea di fare questi giganti Era dovuto a un fatto personale Che ha incontrato Si è scontrato con un ubriaco E' da lì che si è preso ispirazione Per queste creature grottesche Ah ok Poi c'è un po' la faccia da... Sì ma non solo la faccia E' per il fatto che tu Anche se provi a comunicare Con loro Non ti riescono A capire Possono farti del male In consapevole Alex lol Io faccio i giochi Che voglio giocare Mica Mica altro Poi se tu vuoi proporre un gioco Vai Accetto consigli A parte Alex Alla fine Siamo pure All'orario Dove la gente va a mangià Quindi Quindi Tu inseriti vai Che vuoi che ti dica Ah funzionato eh Volete che giochiamo Alla terza volta Tu inseriti Sì 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 Buon per te Sono molto comodo Che poi allo zoo Ho visto La La loro razza I draghi di komodo Molto belli Io non li ho mai visti Eh Sono belli Che Che poi giapponesi pure Sono matti loro Che queste Queste creature Se ti mordono Sei finito E hanno inventato Un giochetto Dove Tu Come giocatore Ti regano Un pezzo di carne addosso E devi correre E spuggire A questo drago Di comodo Che ti insegue Divertente Lo farei Sicuramente Io Sono matti Eh ma Sì Twin sanity Non ti fa male Se tu insediti Comunque Mo che prendo Stas Ci serve Qualche partitina Se riusciamo a farla Va bene Io Per giocare Ci sono Quando c'ho tempo Adesso 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 no Che sto accendendo La live E gioco di WWE Ah è porca Alex doll Sfida Tu prima Dici Non fa Questo Sfida Senza confini Che è Il più brutto Della serie Di Jack and X Bello Comunque Si può emulare Ma è un casino Funziona veramente male David Riporta Ci riporta indietro Al massimo Provate Un sondaggio No No Abbiamo già provato La prima volta E sapete tutti Cos'è successo Ora Il virus vuole Di nuovo Tu insediti Guarda che lo faccio Davvero Secondo me Tutti quanti Partono In massa Tu insedi Qui insedi Ciao Sono Deggio Fan Quanto è Fatta Fusione tra Robocop E steven E' un crossover Ma Perché prendono Tutti alla leggera La cosa Della fusione Insomma La fusione E' una cosa Importante Poi non so Quanti fan Di steven Universe Ci staranno Qui in mezzo Ma data E' A haven Pensavo di portarlo Ma ho detto No Che faccio Ti vuole fare Quasi 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 E' un di quei giochi Appunto Che non so Mica Se li finisco Solamente Per cazzeggiore Cioè Icaru sa nuotare Mentre Tony Di GTA Vice City Non sa nuotare Eeeh Vedi le differenze Ah è successo Che le persone Sono fatti Più di un accanto Per votare Ecco Anche quello Ma oltre quello La gente Si insultava Nelle chat State male Che diceva Ah si Godo Becca di questo No Vogliamo quell'altro Una rottura Di scatole Ma Ma che cazzo Sto andando Eeeh Si Non è Mi è carino Se il gioco qua Ci sbogniamo Dalle risate Sbogniamo Che sento Sto termine Nella mia Sbogno Tu sbogni E gli sbonna Non puoi usare Ci sbogliamo Dalle risate Conosci Minecraft Story Mod Eeeh So che cos'è Ma non l'ho mai giocato E non penso mai Lo farò Perché comunque Cosa c'entra Minecraft Con quella cosa C'è Un genere Di gioco Che non c'entra Nuda con Minecraft Ci ha messo Il nome Di minecraft A caso La mappa In penita Di un filosofo Che raffigurava Prima di La terra I continenti In presentava Scritte In A genitino Ixunt Dracones Eeeh Non ho capito Perché uno Perché è breve Due perché Due per questo E' altamente Rigiocabile Tre E' crash Quattro L'ultimo Che vuole murare I classici Più o meno Anzi Senza più o meno Non vuole murare classici Per niente Tu inseniti Ricorda che non cambia Il design Dei personaggi A differenza Di quell'altro Ma E murare classici Riprende alcune cose Di livelli Tipo gli inseguimenti Ma no Non è che riprende Totalmente Tutta la formula Tipo gli inseguimenti Metà gioco E siamo qua Eccolo qui De orange Di nuovo Doveva tagliarsi Capito La spada laser E' un bastone Stordente Ma lo sapete tutti Che i bambini I ragazzini Negli anime Hanno i capelli Strani Eh E' una cosa Risaputa Esatto Ma non sempre Comunque No Quello è vero Non sempre Però mi fanno ridere Perché I protagonisti Hanno tutte queste Particolarità Vengono Evidenziate Mentre magari Il pubblico O quello che è Di sfondo Non hanno la faccia Sono delle facce Anonime Cioè Bruttissimo A me piace CTTR Guarda L'ho giocato in live E tutti quanti Me ricordavo Me lo ricordavo Bruttino Sonic Fan La live Mi ha fatto Capire Quanto In realtà Sia effettivamente Aaaaa Ma anche perché È un gioco Che Ne È un gioco Proprio Bleh Un gioco No Ne Dove devo andare Ah Quel pulsante Si ho capito No Questo è un altro Però l'ha copiato Praticamente Ah Ho capito Ogliamo Tutti Twinsenity Però Guarda che siete Icaro E io Leggo Icari È vero L'ho fatto Pure io Ti farai Capelli Alla Goku No 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 Aiuto Che non sta scimmia qua Icaro best protagonista di Epic Escape Il migliore lo vorrei in All Stars 2 È come il costume alzativo di Spike Perché a me le mostre sarebbero le stesse All Stars 2 Ma che sei di Mattusalemme Di Mattusalemme What? Anzi Va mangiare Buon appetito The Hot Camel Ah Channel No Che cosa? Camel o Channel? Madonna Provate un'altra persona che fosse tipo Una parodia del nickname di The Hot Camel Sì vabbè Guarda che lo scopio di questo gioco qua È quello di catturare le scimmie Mi saluti chiede Pemper Marulli Ciao Pemper Marulli Ma guarda che ricordi L'ho comprato su PS4 Hai fatto bene Ehi ragazzo Non lo sai che devi stare a testa Tipo come Ralph Però in Mager 4 Non è una brutta idea Ma Sto vedendo una scimmia Che sta sopra Una ruota Sì È un boss È tratteggiata a figo È tratteggiata a figo Però poi Ciò che ti dice Oh delinquente Perché? Eh beh È quello che dice Va bene Mi dà del delinquente C'è andato Troppo il Veneto È sul primo o il secondo? Da quello che so È nel primo no? Allora Il professore sta in tutti Ipe Escape Però solamente nell'uno Parla in Veneto Tu inseniti E il prosciutto Sarà la nostra ossessione Perché non farei La tua faccia Perché non mi piace Vedere la faccia In live E già la live Comunque È abbastanza Appesantita Dal fatto che mostra il gioco Quindi mostra anche la faccia Dopo ha appesantito il doppio A parte ragazzi Se volete vedere la tua faccia Vedete gli altri Sui vecchi video Eh Eh Il mio bellissimo viso Eh Lo potete vedere Non è un mistero No frusto In modo sadomaso La scimmia blu Delinquente In quanto riguarda Di scimmie In questo gioco Non puoi la tua scimmia La scimmia La scimmia La scimmia Eh Ragazzi per avermi avvisato O la G1 Se paghavano Shanta al boot E lui è È stato È stato bravo Aia 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 Inchia Lo sconfitto È stato difficile Ma è Non è Che la lingua italiana Non è Non è Non è Non è Non è E Alex Sroll È Perché in America Non parlano la lingua italiana Semplicemente Quindi non ha senso Mettercelo Dani c'è il tipo strano Del 3 Che appelli alla Richard Che cosa Non Chi è quello Che appelli alla Richard In Nel Pescape 3 Ciao Gamergirl Bentornata Ciao La persona Ha fatto un gioco Di Dragon Ball E da quanta gente arriva Ah ho capito Quello di Sta riferendo Ti ricordi Nel 3 C'era quello Con l'Afro Sì È quello Sta parlando Ma cosa c'è Tra l'Afro Con Richard Benson No no Non Richard Benson Richard Htt È praticamente Un ragazzo Su Youtube Che ha i capelli Un po' All'Afro Ah E boh Non lo sapevo Non avevo Nemmeno ho capito Con chi si stava riferendo Poi ho detto Ah aspetta Quel tizio Eh ma io Sono fuori dal mondo Fai lei Sentito Non posso Non posso streamare In nessun modo Se no la farei Che schifo L'America E tu compri gli occhi Da loro Dragon Ball All Stars 2 Sì perché sono La Sony Nabbo il killer Ciao Benvenuto nella live Ciao Anche l'Icon Proprio adatta Con una delle scimmie Eh beh è vero Adesso l'ho notato adesso Tutto fatto Luca Rossi Non è perché Uno che era tutto fatto Lo so Io sono letto Sup GG Ciao A case gaming Ciao C'è da conosci Rob Forchetta E i fancazisti Anonimi Rob Forse un pochino E i fancazisti Anonimi Sì C'ero iscritta Poi adesso Hanno smesso Quindi Hanno smesso È da un bel po' Che non li vedo In giro È un peccato Erano divertenti Dani si è babbuto adesso Dani A questo momento qua Non sono babbuto Sei defluttuante Questo qua è a livello Dei fantasmi Quindi si sei defluttuanti Oh che bello Queste cose Mi piacciono tanto Banane incendiarie Quando tutto è più gotico È meglio Lamenti strani Hanno cominciato a A scrivere in inglese In chat Che cosa? Hanno cominciato a scrivere in inglese In chat È per parlare con Akex Eh io ho comprato niente Su nome Non so Comunque L'americana viene dall'Italia Ok Mi dispiace Che l'hai preso L'americana Non è che Preso la versione inglese Non credo che tu sei piccolino Giocaci pure in inglese Anzi Ti aiuta a sviluppare meglio La tua lingua Ecco Sì Anche se Forse capitato A me io l'avrei comprato Eh vabbè Dettagli Chantal stanno ritornando a settembre gli anonimi Ma veramente? No dai Sta prendendo in giro Saranno passati un po' di anni Da quando hanno smesso di fare i video Sono passati degli anni Da quando hanno smesso di fare i video Gli anni sono passati Ma i problemi sono sempre i soliti Ora procurati un'arma E tieniti pronto a combattere Ah E se vedi il mio drone spettrale Mettiti sotto la luce E premi il tastazione Per chiamarmi Perché i candelabri si stanno masturbando Chiede a Cosa? Cosa? E mi fanno su giù con le mani E non l'ho notato Non ce l'ho nemmeno fatto caso Non li potrò più vedere Mi sa E basta che vai indietro con la live Eh lo so Gli altri youtuber sono gelosi Bostra solo se alcuni fan Seguono altri youtuber Minchia Segui jj Minchia C'è veramente ci sono tizi Che magari vanno nelle altre live Degli altri Dicono Quest'utente sta seguendo questo youtuber Non va bene Ma veramente Dipende da chi youtuber Se seguono un youtuber Che mette non so Foto di bambini morti Allora posso capire Però No sono morto Sono un bambino morto Ah ok c'è la scimmia che mi ha dato Da mangiare Vaffanculo va Guarda facebook scopri che dico il vero È solo un anno e mezzo Eh lo so ma per me Sembra passata un'eternità Icaru Ah ok Sta venendo Ah Non ci bastavano le paperelle Adesso pure lui I paperelle che vengono Eh No è sul fatto che Cusi di quello che ha detto Akex Cioè quello ha detto Ah che sono scuro No le paperelle I candelabro Ah no Ho letto male io Sì 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 E sono morto Che cazzo Come caccafata Arriva così presto Akex I biscotti della Sony Le ordinato ieri No ieri Cazzo dico È arrivato E Ieri perché il mio cervello Eh sono già passata Mezzanotte E ho ordinato Tipo Un'ora fa Due ore fa Come fai a essere Ad arrivato già Emi Aliano Chimento Oppa butodian style Ciao Ben arrivato Pensate al povero Makoxi Cos'è Makoxi Makoxi Ah ok Non so chi è Conoscevi la casta Cosa? Raffraga Rob Simone culo Ciao Francesco Careri Perché qualche volta Non porti Kingdom Hearts Birth by Sleep È per PSP Per esempio Che non l'ho mai finito Non l'ho mai neanche provato Quindi sai Nel modo ieri Che fine l'hanno fatto Sono ancora lì Non sono andate perdute Non posso cambiare La grafica Dei giochi PS2 Sorry Oddio io un po' Mi incazzerei Se un mio iscritto Se qui sono di quei youtuber Commerciali inutili È come se lui preferisse Contenuti schifosi Ma frequenti Piuttosto che buoni Ma poco seguenti Ma The Orange Ognuno ha i propri gusti Lo stesso vale anche per me Cosa credi Sui disegni C'è gente che si Mi segue per quello che faccio Mi fa piacere Ma vedo tra i loro favoriti Che hanno dei gusti fetish Del cazzo E allora dico Sì Mi fa schifo Finché non mi rompi le scatole Va bene Ecco Voglio pensarla così Vabbè non è che uno decide Se avere un fetish o meno L'outube è trattata la Pokémon Da 2006 al 2011 Poi scomposta di nulla Non solo il canale Ma anche lui È saluto di fare YouTube Credo O è morto Dopo Jerry e Fanny Ah tra le mod Dice Allora Per un momento ha messo Shrek Nel cielo Ah sì è vero Tipo l'Aretti Sì Polaretti Nel neve Che altro ha messo Ah Death Note Ah sì Sul ghiaccio a caso Sonic Kratos quando fanno Un'energetica Che poi la faccia Ah sì è vero Che scontava Kratos Eeeh Oddio Ma c'è un vuoto Ma perché ieri Ero molto Stanca e fusa Però ne aveva messe tante Luca Kingdom Mest Non mi fa schifo L'uno mi piace Perché ci ho giocato a piccolo Non peraltro Però è oltretutto Comunque vabbè Gradite il piccante E vorreste sopportare di più Non ho mai mangiato piccante Tra le una volta Che Eeeh Tipo era in una qualche Andate in una festa Di terremotati Ed era tipo Tra le specie Cioè insomma C'erano delle spezie Di Di cosa Marocchini E l'aveva messa nel riso Con il pollo Tipo E c'era il piccante In mezzo appunto Spezie piccanti E Non è abituato Sono stato male Poi il giorno dopo Io invece Con mia madre D'inverno Fa le zuppe Le minestre E ci mette il piccante Alcune volte lo sopporto Altre volte Mi vedi che prendo il pane O l'acqua Per Perché è troppo Beh Non ti ferma di pancia Beh Fa bene Fa bene Metti Paolo Brosio Su Apescape Non posso fare Modi Storzi Per due No ma il bello E dice Chantal Metti Paolo Brosio Poi alla fine Dici Lo so che lo deve fare Dani Ho capito Ma allora facevi prima Scrivere Dani No? Ciao Amadeo Ti c'è perso che ho iniziato Archive Dice perché abusi del cerchio Eh perché ha una forma Molto comoda Mi c'è perso niente Inistato il gioco Lui è testo di Apescape Me lo ricordo Amadeo dice Se ti sei perso Se ti è perso qualcosa No No direi che no Niente di diverso dal solito Dicevamo cose Esatto Come 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 nostro Solito Ridacci le nostre schimmie Trump Ah è vero Trump Che combatte contro il Messico Viva Lared Flame Fox Lared Flame Fox Forse voleva dire Il classico team Che si riferiscono A me Te DJ E Cloud No credo che ne volessi Il canale ma sotto la A casa E vabbè Wow che onore Grazie Dani legge poco E ma perché sta giocando E non può fare due cose Allo stesso tempo Poi salta ai commenti E voi vi lamentate Perché il mio commento Non l'hai letto E non è che ha mille occhi Di Carlo Passione Star Wars Cosa E tre ovviamente Giocando a questo gioco Nuovo youtuber preferito Oh E vai Le solite robe drogate Una cosa Ciao Matt CR701 Ma sarebbe figo Potrei un bel Jack and X Però non posso Eh l'ultima volta Ci sono stati dei problemi Ho sentito Fa VJ Da Chantale Dice Mr. Pickles Ma cosa Non mi parla Ma ci fa Fa VJ da sua Che ci fa Che fa VJ da tua Chantale Ma che ne so Devo mandarlo via Allora Eh vai Mandarlo via Chantale Hai Instagram Che ti follow Magari No 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 Non ce l'ho E già tanto che c'ho Facebook Ma quelle cose Non mi interessano A parte che non ho capito Ancora la funzione Di Instagram Qualcuno mi dica Che cosa serve Non c'è problema Ma te la Transformers Dice Francesco Careri Careri Chiamo Chiamo te Per parlare con Dani Eh ho capito Io sono infatti Sono qui per questo Per leggere I vostri commenti Il tre Però da loro Perché giocavo da piccolo Dice Kingdom Mest 3 Non è più scherzo Come hai fatto A non finire gli altri Ah pensavo di essere L'unico Ad aver giocato Al move Ho provato la demo Del move E ho provato La demo Del move È un giochino Per il move Cosa che è di bello È che c'è IperScape dentro Scimmie infami Per voi Solo DJ Ciao Chantal Sembri simpa Con la Y Simpa Ok Grazie Sì Matt C'è il minigioco Di Soy Snake È da figo Se faranno Un film Spider-Man contro Robocop Chi vorresti Vincerebbe Spider-Man Perché almeno Non è Non fa schifo Ma dove sta Sto commento qui E perché Si trova Rimasterizzato C'è il 2 Solo Cioè Se vuoi ti faccio Io Instagram Giustamente Mi spiegate Qual è il senso Perché Facebook Vedo che Eh sì Condividi Ti senti con gli amici Instagram Per lo più Vedo che È postare foto E basta Poi non lo so Magari sto sbagliando io Non lo so Arcava come Potremmo andare Solamente per Escape Move Mi dispiace Archive Eh c'è il Chirox Ciao Chirox David Best Non lo so Quanti monitor Ha i miei pollici Ok Basta scriverlo Dice che è un Penso che è una battuta Di qualcosa Spider-Man Dice Spider-Man Spider-Man Contro Robocop Credo Perché tutta questa Questa pistazione Per Robocop Eh snimali Che nello nomino È ovvio È sempre lui E per Escape 2 Graficamente è meglio Del 3 Ma non Non è vero Secondo me Tutto che i modelli 3D Sono strani Nei per Escape 2 Ciao Luca Guarda quanto è stato da scrivere Il senso è mostrare il culo E guadagnarsi sopra Ma a cosa ti riferisci Ah quindi Come lo pensavo io Praticamente Ma guarda Instagram Eh sì Credo che si sta Riferendo appunto a Instagram Ah ok Tant'è anche per molte cose Che io non so Bene Grazie di Badfish Ho capito tutto Ah ho fare meme Idioti Eh allora Penso non mi vedrete mai lì Mr.Picos Che ne so Io li prego Mi sono solamente il 2 Dei masterizzato Mica sono da Sony Eh già tanto Racconta che passa sulla Wii Eh avevo una Nintendo Wii E poi I comandi facendo schifo Gli ho dato fuoco Non lo so È vero che i comandi Non sono il massimo Best story ever Ma i comandi touch Deci e touch L'abbiamo già detta questa domanda Era terminator abbiamo detto Ciao Sony Snake Ciao Sony Snake Salve a tutti Dannazione Chantal fai video musicali Su musicali Su musicali Ma cosa Ah su musicali Che cos'è Che è un programma Forse Ciao 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 Su PS4 E PSC 2 In 4k Mi pare Su PSN Guarda io credo Che tutti Come mio Tutti i giochi Della Emulati Della Play 2 Su PS4 Vanno anche in 4k Credo Perché se non è così Boh Che cazzo fa la Sony Eh infatti C'è appunto Credo Non è andato a comprare E poi mi dite Eh ma hai detto N4k Ho detto forse Raccontano Che ti passi su Dexter Ehm Dexter è Che ha preso un gioco Dal mercatino A 5 euro Dexter è andato Dal mercatino Ha preso un gioco A 5 euro E poi è andato a casa E ha fatto una live Però Su OBS C'era scritto Mmm 4m E ho detto Boh Se dice lui Lo dico anch'io Lo sono messo lì E sul letto E ho fatto il pomeriggio A fare Mmm Poi è arrivato Jerry Scotti E Gli ha dato una testata C'era tutto il sangue E non ci giocherò mai più E non dimentichiamo Funk Il 666 Dai È tornato Come console Ciao Revuers Bentornato Ci sentiamo mancato Cosa fai Se i tuoi giratori Vengono Quando fai la live I miei giratori Non ci sono Per fortuna Quindi posso fare la live Anche fino a letta di mattina Ma un giorno Un giorno uscirai per scherpire Dai C'è un tale per fare il video dove balli e fingi di cantare musicali Eh ma io sono negatissima nel ballare Quindi no 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 Ah e balli le canzoni di Di tu Eh di Cristina D'Avena La sigla di tu cantata da Cristina D'Avena Racconto io una creepypasta di merda La scorsa settimana comprai una Wii con due giochi a scelta Il primo era Mario Kart Wii E il secondo aveva un nome strano Si chiamava Ma chi ti sei in cula Appunto è Eh sì Ok Senta al Dania Avete un NES? No No Ho visto uno Dal vivo tanti anni fa Ma non ce l'ho mai avuto Il mio Eh adesso ti chiedono di raccontare tutte creepypasta Adesso sul Gamecube Eh una volta ho comprato un Gamecube Poi ho giocato a Twin Snakes E gli ho dato fuoco Però mi sono bucciato a mano E petteva dato sui sanque Poi mi sono bucciato a mano Ho dato fuoco a Twin Snakes E il Gamecube ha detto To Bravo Così impari Ah non vendono sui bei Costa 120 euro Lo snagwe Jerry Scotti con gli occhi sanguinanti Snanguinanti Snanguinanti Snaguinanti L'hai visto il film Suicide Squad? Scritto male ma Io sì e Non è male Solo che le scende azioni erano tutte incasinate Poi Non davano abbastanza spazio a tutta la squadra Cioè Davano spazio a Harley Quinn Solo verso la fine Il Diablo E a Deadshot Quindi dovevano chiamare il film Deadshot e i suoi compari Però non è bruttissimo ecco Vale almeno la pena di guardarlo una volta Io non guardo quasi mai i film Sono una persona triste Io di solito guardo solo quelli d'animazione Però se mi capita Do un'occhiata anche agli altri generi Che basta sul NES Allora Minchia Bella questa console Però c'è un gioco che è stato rilasciato in Francia Non va Allora tipo Ho ingoiato la cartuccia E sono morto Non ci giocherò mai più Per forza di cose Intanto uscire il sangue dalla cartuccia Però questa cosa quella non l'ho specificato Chantal Dani Vi consiglio un horror trash Guarda Vai Consiglia Ma non so se lo vedrò Anche perché l'ho detto che sono sensibile Anche se fa schifo comunque Gioca Lifeline Molto violento come gioco E non so se parla con Jerry Scotti o con Berlusconi Cosa? Cirox dice Vuole creare una mod di Omega 4 Y O 4 Wii E non so se parla con Jerry Scotti Sì Non so se parla con Jerry Scotti o con Berlusconi Falla con Jerry Scotti e Berlusconi Oh abbiamo la macchinetta Let's and go Let's and go Let's and go Jerry e la febbre No perché Scotti Ah 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 Faccio il verso di coso Di Rido Sto ridendo Creepypasta su Berlus Una volta giocai a Crash Bandicoot Inizia una nuova partita Mi si dovevano fare Che si chiama Fuck Poi crearono altri tre file Chiamati Hook E chiusi il gioco Mi stavo Spaventazio 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 Anche nelle creepypasta è abbastanza frequente Red racconta una creepypasta su Berlusconi Su Berlusconi Su Berlusconi E l'ho votato E l'ho votato Santa Denti La parte intima del ragazzo Ah Ma lo conosco Ne avevamo parlato con le mie amiche Volevamo vederlo Anche nella live Ne aveva parlato sui denti Eh ma Non l'ho mai visto ancora Ma lo conosco Che 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 bellissimo Cioè Facciamo pure la pubblicità In televisione Di quella roba Una volta Ah Crevi pasta bella Ho comprato Ape Escape C'era scritto 666 Morto Fine Bella Ma io voglio giocare Ape Escape 666 Emiglioso Fascifo Ma come scrivi Fascifo Crossover Tra Ikari E Bandicoot Secondo me Esiste I crossover Io li amo Alcuni non hanno senso Ma altri sono davvero intelligenti Tantale Devo cherti una cosa Per un disegno Posso contattarti Guarda Se hai Deviantart Mi puoi contattare Via note privata Che mi chiamo Evilcoco 95 C'è proprio L'icon di Evilcoco E sono disegni Di Italia Ah c'era anche Internet Explorer Ieri Quindi se hai Deviantart Ok Sennò Devi dirmi tu Che cos'hai Red racconta Una creepypasta Su Jerry Skitty Meglio di Skitty È un bravo È un bravo Conduttore televisivo Una volta sono andato a trovarlo E mi ha fatto l'autografo Però l'autografo era L'osso sangue Allora leccai l'autografo Ed esplosi E morì No Rimase esploso Ma vivo Sì lo so Non è il massimo Del mio nick Deviantart Ma lo vorrei cambiare Solo che adesso Adesso il sistema È diverso Se non hai Top punti Non puoi Beccarti Un potenziamento Quello che cacchio è La core E quella ti permette Di cambiare nome Quindi senza quella Non posso cambiare nome Lo odio Cioè credo che Devi andate Pay to win Mi devono dare Devo avere un top punti Mi pare che erano 300 punti Appunto per avere Quella cosa Ricordiamoci Che per masterizzare C'è vero curiosamente Un punto ex Dice Gamer girl Cosa? Per masterizzare C'è per forza Un punto ex Dio È il miglior formato Per masterizzare Creepy Basta su GJ GJ entra in live Con le cuffie Dani ride forte L'audio va in loop E GJ muore Con il sangue Che riesce Dalle orecchie Dalle orecchie Dalle orecchie No vabbè Questa è carinissima Insomma Lo sentiamo spesso Che quando tu ridi Si lamenta Ah Le orecchie Ken Siro Kasumi Mi dice Che potrei mai No potrei Nuove mod Di Xenoverse 2 Eh perché no Si Però adesso Sto facendo le live Perché ho la professione Libera Voglio fare questo Per fare i cazzoni Con amici e amiche Fare live O seguire Sede Ti devo dire però Che conosco i versi Che lo usano Per sbavare Di te le ragazze Quindi boh Quindi vogliono Che ti fai instagram Per sbavare Di te E allora no Non mi vedrete mai farlo Ma tanto non ci sto Tanto appresso Su queste cose Già tanto su facebook Arrivo Ogni morto di papa Li Frequento per lo più Deviantarte e tumblr Perché Vedo cose che mi piacciono E pubblico i disegni Come posso mandare Che basta di merda Che ho tolto a caso E gamer girl Contattami in privato Su youtube Mandami un messaggio privato Non c'è problema Privatto Non 2T Privatto Tanto penso che Ci riesci No Qui c'è la macchinina Ti fai snapchat Cos'è Cos'è No aspetta L'avevo sentito nominare Questa cosa Ma Non mi ricordo C'è un vuoto Sarà sicuramente Un'altra caccia Ciao Francesco Carei Ci sentiamo Quando torni Vediamo Ah Mi sembra che la dare Per mettere I cosi degli animali Le parti degli animali Tipo le orecchie Il naso No Non me lo farò mai Cos'è Eh snapchat Che io mi ricordo Alcune Si fanno la foto Tra le modifiche Ti puoi mettere Il naso Di un animale Le orecchie Almeno È quello che ho capito Ma di Varfish Quante cose random E per mandare I messaggi privati Su youtube Gamer girl Devi andare Su Beh Adesso Devo ricordarmi Perché una volta È più facile Vai sul mio canale Poi vai In Un attimo Che sto entrandoci Io stesso In Il mio canale In About Che sarà tipo Informazioni In italiano E Vabbè Chiaramente Il mio canale Non mi lascia Mandare messaggi da solo Però Se vai Se tu vai Nel mio canale Silenzio Sony.exe Trovi In alto a destra Send message E Travite Send message Mi può mandare Il messaggio privato Se non hai capito bene Come si fa Chiedi pure Non ti preoccupare Sono qui apposta Per spiegare Ogni cosa Ti piace Che il Rambo Appare Su Mortal Kombat Oddio Rambo Appare su Mortal Kombat Cosa Non ho capito Veramente Vabbè Che hanno messo Tutto Il Mortal Kombat Se ne mettono Anche quello Non mi sorprende Neanche un po' C'è una roccia Tra i bambù Che puoi rompere Con il pugno Che ottieni A fine gioco Ok Se lo tengo A fine gioco Me ne frego Però Al momento Grazie per avermi avvisato Sarebbe tipo Per una scimmia Credo Se è nuz Ok Magari Mandami tutto Chi di la bocca Chi di la bocca Va bene Io chi do la bocca Però tu No parlarle Come cinese Cercare di parlare Italiano Dove caso Devo andare Comunque Non vedo Nulla Nella Live Lo schermo Sta glicciando Ma dice veramente Oh Come sta andando La live Nel senso Se è fluida O meno E dice che sta glicciando No io la vedo Per bene Non so Proverete via la pagina Snipergirl Nei Snipergirl Buonotte Gamergirl Come ieri Poi ricominciate Ma a parlare Di cose Non adatte ai minori Eh no Che è venuto in mente Sniper Non so perché Ma intanto Cosa Ma intanto Red Non fa mai La seconda parte Di Apexcape In che senso La seconda parte A parte il fatto Che l'avevi fatta Se non mi sbaglio No Tutto di fila Apexcape C'è andato E fai la veneta Della situazione Che cosa Deve bestemmiare L'unica frase Era quella del professore No no Correte via Tutti e due Non ho un bel accento È vero Brian Gecko Faccio più spettatori Alle due di notte Che mo E anche Apex Dice che si vede bene Allora non so perché Prova a riavviare La Aiuto La pagina Gamergirl Shadal Leggi adesso In segreto E' il mio vecchio ID Perché lo devo fare Qual è il tuo vecchio ID Snapper Girl Che non ho capito Forse l'aveva mancato Qualche tu Mi sa appunto Snapper Girl Credo Ah l'ho indovinato A caso Credo eh Alex Lord deve andare in About sul mio canale E mandarmi un messaggio Tramite send message Adesso ti dico in inglese Però io ho youtube in inglese Però In italiano più o meno Sa informazioni E manda messaggio Spedisci messaggio Boh Ok Evviva Ma mi ha mandato il messaggio privato Gamergirl Oppure Risolto nel senso Che adesso funziona Ce la facciamo Per questa cazzo Di scimmia O Ledski Vedo se mi è arrivato Qualche messaggio privato Eh Eri Come si è andata Per cercare Il segreto Di Fatima Boh Così è scritto Di Vansfish Ho indovinato Il vecchio nickname Di Gamergirl Quindi sono un profeta No Come si dice Un profeta Un indovino Perché Perché YouTube in inglese Red Perché Tipo Visto che ogni tanto YouTube fa un po' schifo E bisogna sistemare Un sacco di cose Nei video Così Anche Magari Di moderazione Così E YouTube Fornisce un tutorial Italiano Che è una roba Bleh Mi è più comodo Avelo in inglese Così trovo tutto subito Ah ok Gamergirl Domani Domani Fai una live Su Budokai 3 Ma ci penso Va bene Che cosa Che è una roba Chantal poi quando hai time Guarda su tumblr L'umbra Perché Perché devo guardare Poi non so Non so se mi hai mandato qualcosa Ma sappi che io ho tre account Su tumblr Quindi Non so qual hai scelto Chantal lo aspetta a caso Cerca video game in segreto Ma perché Non lo so Vogliono che leggi Vuole che leggi Dei segreti Sul video game Ma io devo leggere voi Poi vi lamentate Se nessuno vi legge Eh Eh ma infatti Che sono più persone Che dicono cose diverse Quindi Eh anche Insomma Chi Questa live Operanti Preparate a pagare Le conseguenze Cazzo Mi sono fatto male I boss Tutti gli ape Sono gli stessi Sì Sono gli stessi Eh è vero No solamente nel Nel due Nel tre Sì è vero Però nel tre aveva il kimono Una cosa simile no? Ah che schermi Ha ordinato Undici playstation Ostras Come hai fatto? Adesso c'è uno stock Cazzo non ce l'ho fatto Sto morendo Sono l'unico Che ha ancora dubbi Sulla sessualità Della scimmia gialla? Ma non è che devi avere dubbi È ovviamente Totalmente etero Eterissimo Holy shit Perché tre account? È uno per Revloggare la roba Così Sono a posto con Con la coscienza Perché è brutto Mettere solo like Un altro per Mettere i disegni E un altro È un canale speciale Se non riesci Non so cosa dire C'è la funzione Per mandare messaggi Chantal Ma io devo leggervi Io vi voglio bene E di sicuro Vi fa piacere Che io vi leggo Sei della zona Delle mia computer Sisma di 5 anni fa Sì Io ero Quasi nel Nell'epicentro Praticamente Però non ho avuto danni Non cimia gialla e platinette Però non ho avuto danni Esiste una versione Non mi ricordo Se era cinese o giapponese Che è praticamente Come un sosie di platinette Comunque sì Anch'io ho 11 copie Di Cos'è football manager Per la prima xbox Mi dà regalati Game stop a caso Un giorno Vieni a prendermi Vieni a prendermi Vieni a prendermi Vieni a prendermi Arrivo Ce la facciamo Oh Credo che ho vinto Ti concederò Un account speciale Contattami tre volte Ti concederò potere Speciali Sì esatto Terribili Poteri terribili Tro Tro È troppo Noioso Mi dispiace Animali Che non ti piaccia Eh vabbè Wow spoiler Giocavo solamente con Saturn All'epoca Ah non stava parlando Come parlava con Archive Sembra la tua vita Vedi che Spesco di immagine La mia stessa È di Sì sicuro Sulla mutande C'è scritto Ninja femmina Cosa? È così che il biscotto Si sbriciola Cosa? La scimmia Gialla nel tre C'è sopra scritto Eh beh Scimmia femmina Sulle mutande Non so perché Bello La scimmia gialla È popo Sessuale Se potessi fare le modi Potrei farla diventare Da gialla a nera E diventerebbe veramente popo Mamma mia Sì La versione canonica È quella di Sayaka Visto che ha un sequel Mobile Japan Only Non ho capito Se parli di Pescape O di altro Mi sono un po' perso Ciao Flavio di Girolamo Che ci lascia Ciao Ci vediamo nella prossima Live video Non lo so Se ci sarai Ciao La faccia della scimmia Mi ricorda un Pokemon Eh Credo Jinx No? Archive mi sembra Molto esperto Di Pescape Dai almeno Che sei giapponese Archive Puoi giocare A Pescape Con la PSP Dove controlli Il casco della scimmia Tipo O Million Monkeys Il biscotto Della Sony La miglior marca Di biscotti Sempre Pescape E fa bene A parlare di Pescape Perché è bello Bei tempi Pescape Oh Il biscotto Della Sony Vabbè C'è scritto Sony Sopra È vero C'è scritto Sony Sui biscotti Non l'ho mai notato Prima Che cazzo Tan 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 Non potevo mai Croc David Best Ce Ce l'hai I fumetti Se ce l'hai Falli vedere What I'm going to do We told this This position Sbattoloyal Maybe You can Send them In Africa So The kids can eat them Ciao Ciao Noemi Che è tornata E dice che questo livello È molto carino Anche se Quelli Con la neve Non le fanno impazzire In effetti È molto grazioso Omillion Monkeys Aspetta Omillion Monkeys Originale Fa schifissimo Ma Io ce l'ho Pure Ma A parte che non capisco Un cazzo di quel che dicono Che è un po un po strano Cioè non catturi Le catturi Ma il che è strano Però l'ho sempre dato Un po interessante Non sono andato troppo avanti Perché appunto Non capisco Il cazzo di colo Dani che le pensi Di tequila Di non nominare Mai mia madre Che a parte Non nominare Mai mia madre Non so esatto Non so proprio Chi sia Però da parte I biscotti Della soli Sono i migliori Ora voglio Di biscotti Dannazione Vado a prendermi Sarà lo sarò Da ecco Sa cosa è invece È bello Quello spsp Che sia Quello del tre Ma facessero Apescape 4 E basta Invece che fare Ma neanche Perché Ape quest Hai giocato Ape quest Archive Quello è peggio Secondo me Di million monkeys L'unica cosa buona Di Ape quest È che grazie A quella demo Sono riuscito A sbloccarmi Adrenaline Su ps vita Dani Me lo sono perso Ma alla fine Come è finita Con la puttana Che ho da solo Il bagno Quando riparlavi Che sono andato A cercare Una soluzione Del gioco L'ho trovata E sono andato avanti Ah insomma Ha fatto male Vabbè Peccato Perché comunque Il design Di spike È figo Ciao davidbest Ci vediamo Forse spero dopo Ok Ci vediamo Forse spero dopo Anche Io Come si No No Sono da solo Bis Jerry Cotti Al prosciutto Ma lui fa il risotto Non fa il prosciutto Eh sì ma come fa Ok non sono i biscotti Ma sono le patatine alle mele Che mi piacciono Della Sony No Eccolo là Dani la faccia Sembra Spazzo Da quelli Di cicciobello Chantal Dani Vi piace la neve Esteticamente sì Però quando c'è È freddo Ma comunque È da un bel petto Che non si vede la neve Qui dove vivo io C'è un pochino Di neve ogni tanto Quando appunto È molto freddo Da me non c'è la neve Quindi Mi piace Solo che io sono Molto freddolosa Quindi preferisco Stare al calduccio E guardare fuori Lo spettacolo in neve Vado Anche se da te Alla neve non c'è Beh se vado in montagna Tipo Che è stato L'anno scorso Ci sono andata Con una mia amica Siamo andati In una zona di montagna E ci stava la neve Oh i soldi Soldi di Babbo Natale Vieni qua Guarda Alle medie mi dissero Che tu sei buono Nel minigioco del calcio Babbo Natale Quindi Stai con noi Stai con noi La più grande Mi mancano solo Ape Academy 2 Pippo Saro Racing Ape Quest Alla Collection Non contando i giochi Mobile giapponesi Gli altri Sono tutti originali Vabbè Sei un mega fan Di Ape Escape Bravo Deve essere brutto Il fatto che Sony non ce lo sta più Inculando Da 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 All Stars E già Con All Stars Probabilmente Non ce lo inculava Cioè Già non ce lo inculava più Ha messo lo Spike Perché sono stati Pseudo bravi A metterlo Però Un bel muove Per Escape Sarebbe figo Guarda Francesco Queste non sono Veramente patatine Sono Delle mele Essiccate Che sembrano patatine Ma sono veramente Buone Le puoi trovare In Trentino Che me l'hanno portato I miei genitori Dal Trentino E stanno Che ne vado matta Probabilmente Le patatine Con le mele Devi andare a viaggiare Fino in Trentino Apposto apposto Penso che ci sono Dei negozi Dove li vendono Perché sono particolari Sono anche molto salutari Insomma Mangiatele Sto facendo troppa pubblicità Così però Infatti Non va bene Adesso devo mettere Contiene contenuti Emozionali Una marca tedesca Ci mettiamo Non porta tu inseriti Pensa che Che pianga ogni tre E TGS Sony Quando mi infrango le speranze Ma io non ci spero manco più Ma in niente Sony ormai È sempre lì che fa Guarda Mo che hanno fatto crash Ma non l'ha fatto neanche loro Cioè quindi vabbè Perfetto è Naruto O Anonymous Anonymous Chi è Quelli Che hanno la Sony La La Microsoft Quelli di No credo che sia Quello del film Quindi direi Per forza Naruto Eh sì Mele essiccate Sbava come Homer Simpson Eh sono molto buone Ti mangiano proprio Come se fossero delle patatine Tra poco va in trentino in vacanza Ma non pensa che si inculerà Del mele essiccate Francesco Oh beh Come vuoi Eh però Dopo Così La consigliata Poi Ti vuole La lucida di Chantal Diventa inutile Dopo il mio manager Non potrà trovare Del product placement Ovviamente Per il mio ganare Peccate le escape È anche originale Come saga E poi mi piace E' sperto L'abrio blu Che ho qui Sul tavolino Ecco Quest'anno Speravo per Spiro Collection Eh ma Ma Sonio Magari Dovato a mostrare Il mondo Però poi ha detto Ma sentire Visto che tutti Altri hanno fatto schifo Facciamo schifo Anche noi Quindi Cioè Sony Fa Storicamente Ha fatto dei bei giochi Però Mamma mia Sì Dopo Se ci arriva Gabri Facciamo Le event Giochi in piccolo Con le mod Così c'è La demenza Più totale La cosa Belle Le cose Tanto belle Ci sono Dani Sende l'Emilia Sì Come non si Come mai Si sente Quasi l'accento Anzi Sembra più Lombardo Cosa Boh Ha detto lui No Non sono Lombardo Neanche un po' Non so come faccio Ti chiede di salutarlo Chi? Ciao Kevin Ferrara No ma veramente Questo livello Ha Un design Molto carino Mi piace Cosa Quella lì Non vuole Proprio Ma è bello Perché Porti gif Sul tuo canale In che senso Porto gif Gif Si dice Sì scusa Hai ragione Cioè che prima Che prima devo pubblicare Una gif Non ha senso Vai direttamente Su tumblr Le trovi Ti piace L'america L'america Cioè i prodotti di intrattenimento Sono fatti da loro A volte Sono belli Andare a viverci No però No nemmeno io Viverci no Visitarla come turista Forse forse E poi Mi ha fatto ricordare una cosa Che ne parlavo con Le mie amiche Che parlavamo di storia Tu sai che L'america L'ha scoperta Colombo Però il nome L'ha dato Amerigo Vespucci E di solito Noi sappiamo Che chi dà un nome A una cosa Di solito Dà il proprio nome E noi ci siamo messi a ridere Ha detto Eh Andiamo tutti A Vespucci Oppure una tizia Che dice Adesso il presidente Del Vespucci Ha questo problema Qui Cioè Verrebbe solo da ridere Vabbè comunque In ogni caso È meglio America Colombo Non ha scoperto L'America Colombo c'è andato A me non fosse l'India E' andato indietro E mi dico Sfucci Ma guarda che Non si è andato Ma guarda che Non si è mica andato Nelle Indie Coglione E ha detto Mi dico Sfucci Me lo sono immaginato Con la voce di GJ Sì Ma Colombo Ma che cazzo fai Vedi GJ Che bella immagine Che dà di sé Nelle live O in giro Che è quello Che dice Coglione Quello che offende Angry Guy Cioè Dicei danneggia La sua immagine Tra queste live Non abito a Torino Ma Dicei danneggia Ma Dicei danneggia Dicei danneggia Anche il che mi dice Che americo Sfucci E' quello che ha scoperto Che è un nuovo continente Che si è accorto Sì Perché Colombo E' stato il coglionazzo Ha detto Ha detto Ah sono le indie Sì è gg che grine Coglione Coglione Io l'unica cosa che capivo In Million Monkey Sera episode kakeru Beh che è scritto in inglese Dove usare l'opera Pede ghiaccio Ma scivolo Ciao Da dimmi il Putin Ciao Putin Mi sono perso Andare a fare un raduno Sì Certo Subito Domani Venite tutti a Roma In centro Ci vediamo alle 4 Attenta che ci vanno davvero Il raduno Di Chantal Tutti i fan di Chantal Che vanno lì Tutti i tuoi fan Chantal Che si radunano per te Sei contenta Ma perché Saturu Fa questi versi Ripetitivi Ebo Di no Da the first Quando hai scoperto L'America Ha ragione Costa di vichinghi A scoprire Per primi L'America Quindi dovrebbe chiamarsi Vichinghia Dipende da Da quale clan O cose simili Dopodichè Vosso che si suicida Perché Vedi lui ne sa di molte cose Sulla storia Mi fa piacere Ma il gioco in Giappo È interagico Con il giapponese Ho messo una scesa Non so più i nomi inglesi E E E non sta parlando Con the orange Credo Sì Altrimenti che non mi avevo dato Alla colombia Per quello che Stavo da colombolo Non potrebbe mai Non a me Beh pure Vespucci Invece di America Vespucci Sarebbe stato solo da ridere Tutti quanti Che parlano Porca puttana Tutti quanti a ridere Devo smettere Devo leggere i commenti Chantal Ma Dani è Homo DJ Sessuale Minchia Ma Certo Soprattutto DJ Eric Io non sono scoperto D'America Eric Dove anche amare All'America È più forte Jack Spiro Scritti tutti i mali O Altaire Cioccolata But E rosso Focante volpe Che mi so Beh che è cioccolata Woot Non è chocolate Woot Infatti Quello è un altro Accanto che ho Sul crash zone Ma porca puttana Non vedo un caso Parlavamo Di America Del suo nome E altre cose Come ha fatto Un pezzo di cioccolata A modificare Il corso Della storia Della storia E' una citazione Ai bloopers Di Giorgio Del doppiaggio Ah beh Luca Kratos Chiaramente Cosa Dov'è DJ Oggi Per adesso Non c'è Forse No Forse Arriva Mezzanotte Arriva più tardi Non mancherà Sarà meglio Sparo Ma porca puttana Ok si deve usare Quello lì Ma io quando lo faccio Scivolo giù Farai la fanfiction Fanfiction Una volta scrivevo Le fanfiction Ma adesso ho smesso Dovemmo leggere In live Uno di questi giorni Un giorno Assai lontano Le leggeremo Quando mi va Io Voglio scriverle Ma mi blocco E abbandono Tutto il progetto Nella fanfiction Ci sono Dei engine Che fanno Le cose Le vedi Su fp Rating rosso Guarda Ha proprio Rosso 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 Perché Non fai Live Su sonic The edge Oggi Voglio fare Una Sulla Acti Sonic 2 Ma sono Troppe Ciao Luca Oh Giusto Per informazione Per quello Non sanno Questo qui È Porca Questo qui È Jumping flash Che è Un gioco Da play Uno vecchissimo Quello Che è Riconosciuto A tutti Come il primo Classform In 3d Esistente The only way You can't live a dream In the u.s.a. Is being rich So I'm safe Ok Vuol dire Che è ricco Si sta vantando Non va bene Non va bene No Good Come si chiama Sul psn Boy Noi Tanto Parla Luca Rosso Compagnia Bell Dani Preferisci Le lesbo Le lesbo Normal Ma che Perché Non sono Normali Le lesbiche Sono Anormale Sono Anomale Sono Diverse Giambi In flash È il migliore Non ho mai giocato Ma è il migliore Lo stesso In bei tempi Ma Giambi In flash È della sony O è Una citazione A random No È della sony È della sony Ci dovrebbe essere Anche il seguito Addirittura Però Non Non ho nessun Cioè Non solamente Uno Sono Uno Per rispetto Parla In inglese È una cosa Carina Per farglielo Capire Cosa Dicono Però Lui capisce Bene L'italiano È Eh sì Però Lo stesso I'm back Dice Nicola I'm back So Cazzi C'è un tal Sono delle Twinsanity Cosa Ma Jimmy Non mi è da vomitare Girando Nello spazio Lì Ma anche Spike Che stanno lì A girare E si gira Lo stomaco Ho solamente Due vite Che cazzo Le vite Si prendono Rompendosi Coglioni Nel Nel Cosa Dei monete Vero Continuiamo a parlare Dell'america Vabbè Un po' di cultura No Noi diciamo Roba un po' di stronzate Alla fine Non Scaturiamo Questi Grandi Discorsi Di Di Storia E cultura Nei commenti Appunto Stiamo facendo Una live Su un videogioco E In chat Si discute Appunto Dell'america Del suo passato Del suo inizio E della scimmia Del E della scimmia Del cazzo Bravo Perché usi i nomi Americani Triggered Ah la sigla di American Dead Ah Infatti non capivo Che c'entavano gli americani Perché Rende omaggio Alla razza americana Che è in me Buongiorno America Buongiorno America American Dead È malato Ma non lo vai alla griffin Creatore dei griffin Sì ma le solite robe Dei griffin Così Cioè Dei griffin In stile griffin Non me ne No io preferisco Sempre i simpson Buonotte Emiliano Chimento America È diventata La sony In lusi Una volta In classe Un mio amico Disse Che lo zio Scoprì America E ovviamente Lo disse Convinto Cosa ne pensi Di gianna Lannini Nannini Mi piace Alcune sue canzoni Mi piacciono molto Anche la sua voce Particolare Sì Non la disprezzo Una volta In classe Un mio amico Disse Che lo zio Scoprì L'America Non ironicamente Lo disse Convinto Bene Dovrà Avere una brutta Sorpresa Quindi Quando scoprirà Che era tutta Una bugia Già A meno che Suo zio Non era Passo Trauma No Ero così Convinto Che mio zio Fosse una persona Importante Alcune Tu cosa ne pensi Di Apescape P O On the loose Non mi ricordo bene Se in Europa Si ha un modo Nell'altro Visto che sei mega fan Dacci la tua Aiuto Megafan 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 E' un mega fan di pesca E' un mega fan di pesca Comprato anche quelli giapponesi Sì ma perché mangiano schifese Però non sono tutti così Eh sì Però c'è una grande percentuale Però non è che sono tutti ciccione E' come quando rappresentano I noi italiani Con i baffoni Non tutti hanno i baffoni Lo sapete che ho fatto La tesina su Rad Frame Fox E li ho associato A storia Sì certo Ritorniamo alla cosa Delle tesine Sede Colombo Dai Dovito Noving E Rediscovered The Americas Ah E' brutta Sta cosa Che è una caccata Di remake Per i controlli Della grafica E dialoghi cambiati Ma i dialoghi cambiati Sono un passo avanti Rispetto a Quelli che avevano fatto Gli americani Nei pesca i puno No scusami Nei pesca i puno Ne ha cambiato tutti quanti I dialoghi Con stronzate enormi Come fa sempre gli americani Ecco Akex dice Che hanno un serio problema Di obesità Poveri Te ne vai a dormire Ma a quest'ora qua Devo dormire Scusami Ma a quest'ora Non dico che siamo Dei bambini E cantiamo la canzone Della buonanotte Dell'orso bear Che siamo a questi livelli Ah Guarda Grazie per La tua opinione Penso per meno Le stesse cose Anche se non l'ho giocato Approfonditamente Come l'ha fatto tu Perché Però Casomai Un giorno Volevo Giocare Pescape E non ho disposizionato Che la PSP Il problema Che il problema È che fanno Una satira Che alcune volte Non è compresa O è troppo È troppo stramba Futurama Anche se non è al futuro Per dire Un sacco di puttanate Tutti i dialoghi A puttane Quello lo so Aggiunte dei pezzi Nei dialoghi Perché gli andava Però non è che so Qualcosa di più Di questo So che Pescape Fa ridere Perché c'è due doppiaggi Inglisi Invece che Avene solamente uno Come dovrebbero fare tutti E so che Quello So che Quello Americano Cambia tutti i dialoghi Però C'è doppiatori Più decenti Infatti ha centrato La questione Con la sigla De Griffin C'è solo Sesso E violenza In tv E proprio Quel programma Parla di queste cose Infatti Ti mostro Tra l'anidia Beh sono Di tardato Per far vedere Tesina su Jack 2 La missione del porto E stronza Fine associata A scienze Della comunicazione Per le bestemmie Anche quella Comunicazione È vero La tesina definitiva Su mucca e pollo Lì è da malati Chantal Dani Che tesina avete fatto Al tempo Io È una cosa Legata al fanciullo Quindi Sull'uomo Che mantiene Questo animo Fanciullesco Inerente a Pascoli Te Dani Propaganda fascista Perché la facevano tutti Da faccio Da collegare Non voleva Essere Bocciato Perché c'è una paura Fottuta A noi rompevano le scatole Dicevano Non siate banali Non fate sempre Il fascismo O quelle cose Vabbè ma Almeno Cos'è Quella Di spike Il Chakram Ma cosa non è spike Questo qua è Cosa È Il giapponese Non mi viene in mente Jimmy si chiama Icari Sì forse Icaro 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 Ho concluso con il nome Che cambiano in terza età Singole frate Cambiati Stanno bene Come in giappo X Più strano Sine euro Di meno Ah vabbè Ma in realtà penso che Traduzione e doppiaggi Di Epscape Siano Tutti Incasinati A prescindere Ci ho visto di tutte le lingue Epscape 1 Avevo fatto un po' Possa anche il video Non so che fatica A procurarsi Tutte quante Le versioni Non originali Chiaramente Perché è possibile E E E tipo Io noto che Sono un sacco di problemi Di doppiaggio In tutte quante Le Le versioni Ah Icaro È il cugino di Spike A quanto pare Non Manco mi ricordavo io Last weekend Oh che figata Akex Dov'è che va? È andato a visitare A un Credo che sia Un manicomio abbandonato Un centro di cura Una figata Abbandonato Una volta ho visitato Cioè non so chi siano Quindi Almeno io Ciao Vabbè Epscape 1 fuori versione Già per una botta Le versioni UK e ITA Sono le migliori Eh ma La cosa bella è che Tutti si aumentano La versione ITA Per il doppiaggio Però alla fine Tu senti Tutti gli altri doppiaggi E sono tutti a puttane Pure loro Quindi Cioè almeno Quella italiana Credo che I dialoghi Siano quelli A parte L'accento del professore Comunque l'accento del professore Venne fatto così Perché c'era L'accento italiano Nella versione UK Quindi Tesina di Epscape Da ricollegare Al fascismo Aspetta che l'aventamento Politico Tesina sur Eros Ramazzotti Va bene Ha fatto venire Fa mangiatele Due patatine Eh non Io le voglio mangiare Si sente Si sente Shanta che fa Che città Con le patatine Eeeh Mettete muto Appena lo sentite Beh Tesina sui cani Di Shanta E' un gruppo rapper Che non fa rime Di Vardfish Ho capito Non lo conosco Quindi posso dire Se mi piace o no Ah Io non sono amante Del rap Quindi Io sarebbe Scrivita Insomma è figo Si è figo E' Io da quello che ho visto Si è molto carino Dovrei recuperarlo Questo Questa saga Si collega Al fascismo Per la violenza Sulle scimmie Eh no Si collega Al nazismo Più che altro Perché c'è I campi di concentramento Delle scimmie Perché c'è Spectre Che vuole esterminare Gli umani Come faceva Hitler Con gli ebrei Allora Poi rimettiamo Un paio di baffetti Ah no Aspetta C'è il professore Che è i baffoni Quindi Si Che si mi ha sfigato Se mi sta sotto la neve E mo si è fatta pigliare Una tesina Su Red Flame Fox Associata a Scleri Su Jack 2 Materia Che ho inventato Ieri sera Ok Chiantale Liga Bue O Vasco Ehm Non mi piacciono Tutti e due Sinceramente Ho ascoltato al massimo Solo due canzoni Di Liga Bue Vasco Proprio niente Quindi Nessuno Tesina sul Cirox Ed farà mai una live Su un gioco di Sonic Devo fare forse Una oggi Ma alla fine Oggi se non farà più Lui cambia Ciao A me Dio Bentornato Ma tesina sul carrello Problemi con la tesina Quello mi sembra proprio Un professore Ti va a romper I coglioni Tesina sul carrello Tesina sul carrello Vatene Ma sto gioco qua Sulle scimmie In luoghi a cazzo Oppure sempre sulla tv Aia Oddio Mi sa che scimmie in luoghi a cazzo Perché pure una figura Perché non avvene il tempo Tomukio E patatine Siete contenti? Ecco così non sentirete più il rumore No sentite più la fame Domani Live Poi un gioco con Nintendo Scrivendo che è della Sony Sì certo Funziona proprio Ma per me è pure peggio Ma per me è pure peggio se fa così Credo Secondo me sì Infatti una supposta di camomila Ma animali Se proprio Vuoi che qualcuno vada a letto Vai tu a letto Vedendo sapere che la Sony Giappa di Apescape 2 Ha il gadget rapido Quello che sapete mi seleziona Ma la nostra l'hanno tolta apposta Perché l'hanno tolta? Che senso ha? Ma non è che è capace che la nostra E' stata progettata prima E non era stato ancora applicato Perché tanto lo fanno Sembra una cosa stupida Però succede E pensate su una tesina Sulla resistenza dell'udito In cui usiamo come cavie Red che urla nelle orecchie a GJ Per vedere fino a che punto Non gli esplodono Oh povero GJ Guarda caro mi sei simpatico Mi ricordi un tizio Ogni tanto parlo su Parlavo su cosa Su Su internet Perché dici un sacco di cose interessanti Che sai solo tu praticamente È un vero fan di Di apescape L'unico vero Crash bandicoot Sembra che so tutta l'enciclopedia Su crash Ciao raggiungo Buonanotte Ci vediamo Quando ci vediamo Tra un po' di monete Ciao Picks pinguino 666 Faremo di non aggiungere Va bene apposta apposta Per fare un dispiacere a te No a te Chantala Quello che l'ha scritto Sacrificiamo questo vollo A satana Queste monete a satana Queste scimmie Le schimmie Red dopo fai qualcos'altro O basta Magari su sonic 2 Please No dopo deve fare Quando arriva Le mod Si le mod di dragon ball Eh vedi archive che Già con questo mi sei simpatico Che sono andato a ripare L'audio La versione giapponese Non lo so Potrebbe essere Secondo me Che la versione giapponese È stata fatta dopo E Non so Data da uscita Però potrebbe Sera fatta dopo C'è succede a volte Che la versione giapponese L'ha fatta dopo Pinguino chiede Farai altre youtube Pup di crash Non ci so Ci so Voglio si Dipende solo dalla voglia Esatto Ooga booga Grazie red Onorato Dice archive C'è già già Sei sexy Se lo deve dire da sola Deve dire da sola Sei sexy Mamma mia Mamma mia Tesina su Uga buga La nuova droga È la mod Di dragon ball Eh sì Sì Infatti Prima sembravamo Tutti fatti Ieri Che prima Water island Ha senso Buon riparto Tutto l'audio Di Apescape 123 E le cousine Da tutti i giochi Ripabili Pure Apescape Move Figo Come è fatta Prendere Quella Di pesca Ma ti vai trovati Download Esperto Proprio Ma le bandiere Red Perché non Crea un canale Discord Perché non A me Non funziona Neanche Discord Quindi Motivo Non La più Pai Dalla Scozia Ragazzi Ciao Late Walk Ciao Benvenuti In una live Italiana Non sei Non sei l'unico International Comunque In questo momento Non Credo Che sia un italiano Che ha fatto Un viaggio in Scozia Poi non lo so Ebbene International Del tipo Non Lo so Che Archive Mi viene da scrivere Da dirlo Alcino No E' colpa mia Io Con l'inglese Faccio schifo Ok Archive Me lo ricorderò Sorry Ho la tv Grande I giochi A P2 Si vedono Brutti Mi dispiace Compartigli Da play 3 Che Fanno I giochi Da play 2 Quella Da 6 100 euro Buonasera Ragazzi Avete mai provato Il gioco Life is strange Se si Cosa ne pensate Mai provato io E che archive La cosa triste Di Di Pescape Che è un gioco Bello Ne ha fatti tanti Ma nessuno Se lo Se lo incula Più Ma anche Ne per Per i due L'unico Che ha voluto Molto E' stato Il primo E' un gioco Molto bello Io ce li ho Giacati quasi tutti Meno che quello La giapponese Di Della scimmia Madonna Del casco Delle scimmie Che cazzo Dico della scimmia Tutti In peschezzo Le scimmia Che sta facendo L'idol Perché Perché Sì Scimmia Questo qua È l'unico gioco In cui ho sentito A parte Pescape 3 In cui hanno cantato In italiano Una delle canzoni Dentro In realtà In tutte le lingue L'hanno cantata Figo È una cosa insolita È figo per quello Ma in sto gioco Non stava La scimmia Con i guantoni La scimmia Con i guantoni Boh Ah boh Lì Giangelo Sta chiedendo Giangelo In realtà È Iangelo Mi ha detto Jackedex Se rincurano Io le pronuncia La cazzo Vabbè Non è inglese Eh lo so Jackedex Non è che Non se rincula Nessuno Ma è che È un gioco Che non va di tendenza Quindi Sony Non vuole farlo Non vuole più fare Nella roba Purtroppo Peccato Tutti i giochi Deve hanno avuto Sotto i migliori copie A parte il primo E perché Mora è avvenuto Diecimila copie Nel mondo intero Vado che tristezza No Che tristezza Veramente Mi spiace Dire che È un gioco carino Alla fine Il problema È che Perché IPU Oltretutto Ha avvenuto molto Solamente perché Veniva dato in bando Con il joystick Quegli analogici La scimmia Mali Si Anna Montana Si sa Quest'altre Rompe Ok Sto con la qua Delle palle Non me ne ricordavo Un pollo selvatico È apparso Dove? C'è la scimmia Robazzi Che è? Chi è Robazzi? Eh Mi chiamo Angela E non so nemmeno io Chi è Però l'ho sempre visto Come un mince È un meme? Una sottospecie Che è lui che balla Alcune volte Porca puttana È stupida scimmia di merda Dove fa qualcosa di palle Mi so Mi chiamo Angelo Ma qui a Taranto Mi chiamano in dialetto Gli Angelo Che si scrive Appunto in quel modo È Gli Angelo Di Angelo Ok Ok Si è trasformato In chissiteramo Ma perché? L'anime del pescaip È brutto L'ho visto cinque volte Io solamente una Ha fatto anche il fan dub Una volta Nell'anime del pescaip Oddio Io già Nicola Nascondi che faceva Il professore Solamente perché a Veneto Io faccio lo spike Perché Spike Questo è il primo gioco Che ho giocato Su ps2 È quello che ho apprezzato Di più Ps Quando ero piccolo Odiavo sta troia Ma chi non la odia? Io l'odio adesso Che sono grande Quindi figurati Il crossover C'è stato con Parappa E Toro In Allstas No ragazzi Andiamo a comandare Tutto molto interessante E Effetti Morandi Ah ho capito È una sorta di cantante Sì È tipo un rapper Boh No No quella roba di Morandi Mi sa che l'ho vista In Su Su R Ci sono le roba Che stanno lì Sì ho fatto un fan dub Archive Ma no Ho fatto solamente L'episodio 1 Comunque Mi sa che neanche tutto No no Tutto l'episodio 1 L'ho fatto Dani Dani Quando continui con Dragon Ball All Stars È quando arriva DJ Sì A mezzanotte quindi Eh sì Ma snimali Abbiamo capito che vuoi Che vada a dormire Ma non accadrà Quindi è inutile Sì ma io vado a dormire Di solito All'età di mattina Snimali Cosa mi chiede andare a letto Ma qui tu puoi scriverlo quanto vuoi Non andrà a letto Figurati poi se lo dice qualcuno Ma Pippoci non c'è Ah è vero che Pippoci qui sparisce Ah sì è vero che Toro stai in Video Monkeys Vince Parappa Parappa ha avuto una demo congenita con Pippo Saru 2000 E Toro è presente in Million Monkeys E poi c'è la Ratchet in In coso In Pumped and Primed E per escape 3 Quindi pure quello E la scimmia di Ratchet Sia una notte La scimmia con il costume di Ratchet Sì Ratchet e Clank 3 è giapponese Chiedono dove si vede l'anime di escape E non credo che sia più su YouTube Spero che ce l'ho ancora io sul computer Ma roba vecchia di tipo anni Pippoci deve morire Povono Pippoci Ciao Simone Sei mio Non c'è problema Tutti che ti mandano a letto Sì sì Addormiti Impiposato qualcosa di aspetto al nudo Pollo è stato sconfitto Ma dove vedete i polli voi Qua ci sono solo scimmie Archive tu sapevi vero che c'è la scimmia di Ratchet e Clank 3 è giapponese Sì Dimmi di sì dai Non puoi non saperlo Ah ok Dice che su YouTube c'è E anche su KissAnime Ma solo su Bato in inglese La prima serie Ma io penso che chiedevano tipo il fanlube stupido che avevo fatto Io ce l'ho torrentato nella massima qualità disponibile Quindi nessun problema Eh Bravo Bravo E invece che andare in Giappone e registrarlo Complimenti Io ho sempre fatto che c'era un rumor che vogliono tipo la 4Kids comprarlo e doppiarlo Ma per me è una stanzata Porca Ah ok lo sapeva Ha detto sì Sì Pensavo partisse una descrizione più approfondita Ma vabbè Il pollo è swag Bene Lo sai che E lo sai che Spike in All Stars Ho giocato solamente 1 e 3 in italiano E nella HD Collection per PlayStation 3 PS Vita c'è anche lì il costume della scimmia Ci ho fatto un video pure sopra Sono l'unico su YouTube che l'ha fatto Perché è Apescape suppongo Farai Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team? Eh non lo so No non è americano quel cartone A quanto so è tedesco Archive Tedeschi Oddio i tedeschi quando fanno i cartoni Più che altro è il fatto che appunto è Apescape Quindi non trovo informazioni giuste neanche a piangere Per esempio io a quanto avevo capito Secondo Devo riflettere su quello che do Concentri Cioè addirittura i non stars A parte gli italiani che hanno fatto una reinterpretazione basata su forse i vecchi Epscape Per fare la voce di Spike Tutti gli altri avranno dato tipo Preso come spunto la voce americana di Spike Anche se nei loro stati non era così Vabbè occidentale fatto da Baka Gaijin Se comunque l'ho vista è una roba abbastanza brutta Però più e più Apescape c'è magari più meglio Eh forse Più che vederlo morire definitivamente C'è anche un altro anime di Apescape 2 di cui ho il DVD Sono io o questo Apescape è più breve del 3? Dice Super Marco Eh boh Io ho sentito sempre la gente che c'è Cos'è più lungo del 3 quindi non lo so Eh muoverà tutta la gente Lamentarsi e quando finisce? E quando finisce? Mi dispiace che non ti piaccia all stars archive Vabbè Beh almeno ringrazia che hanno messo i peschetti da qualche parte Visto che è una serie che è purtroppo più morta di così non può essere Ma ditemi un po' di sti rumors di all stars 2 Beh dovrebbe esserci una demo che dovrebbe uscire in un evento in America E hanno detto che forse ci saranno come i modelli Spiro e Crash più altri Vocratos Ma è ancora tutto un forse Non si sa ancora niente di vero Ok bye Akers Gaming Good luck with the police Bye bye Cops are knocked in a dead Hai ricercato Si Cioè Zeno sa ma Inchiniamoci a lui Apescape dura meno del 2 Ma devi ritornare sui livelli Finito il gioco Penso che intendesse il 3 Qua si diventa se qua mi denudo anche però non c'è la webcam quindi Ma appunto qual è il senso tanto non lo potete vedere Raga che scorsi perché siete andati Io un turistico del cazzo Artistico Però prima ho fatto Ho fatto un Un ragioneria E poi un geometro E io prima ho fatto il chimico Brutta esperienza Guarda con roster e gioco del genere Ma i doppiatori non ce n'è neanche uno di quelli giusti per escape Quindi non ci puoi fare niente Ma beh C'è un roster Un cast strano E per escape Ah ok C'è anche doppiatori Tipo Sono amici tu padri Ok C'è anche doppiatori di roma in mezzo Ah ok Cioè Probabilmente non potremmo chiamarle a doppiare Ostras Anche perché Sono di un altro studio Insomma Se devo giocare a smash Gioco smash originale Anch'essi tutti originale Mi fa piacere per te A me smash non piace Ostras Quindi figurati Cioè non è che non piace Che mi ha rotto Cioè mi piace Ma mi piace meno di Ostras Idem per i personaggi che appunto Quelli di Nintendo Non mi Non so Non ha avuto infanzia Nintendo Ha avuto più quella Sony Nicola dice Professor in All Stars Che ne dite di Evangelion Ma in molti casi di Evangelion Gigi diceva sempre la stessa roba Come una macchinetta Io dico che Mi avete chiesto troppe volte Non l'ho visto Stop Sì nemmeno io Cioè lo conosco Ho visto Lambridge Ma l'anime no Anche perché non mi piacciono i robottoni Chantal è solo il poter immaginare Che Red sia nudo Mentre gioca Che dà un'emozione indescrivibile Cosa? A quanto pare anche solo il pensare Che tu sei nudo Gli dai una grande emozione Da quello che ha detto Però Ah ok 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 in verità Lui è veramente nudo Siete contenti? Red Sma Bros O Assassin's Battle Royale Eh ho detto già Assassin's Battle Royale Per Che sì Mi pensi I gameplay di più che i personaggi Il pensato di Avery Quello che mi hai detto tu Del doppiaggio schifoso Io sono Nintendo Da Waperscape Crash Dispiro Sono le uniche saghe Sony Che mi interessano ormai Ma non sono manco saghe Sony A parte Waperscape Perché manco c'è Io non sono né Sony Né Nintendo Semplicemente Sono uno a cui piacciono Di più le esclusive Sony Storiche Perché mi piacciono più Poi vabbè Ho i giochi I giochi Nintendo Sono belli Ci sono dei giochi Che piacciono molto anche a me Però Per esempio Io quante volte Ho voluto portare Un Kirebin live Ma Nintendo Mi si durerebbe il canale Quindi Da s'affanculo Oh mio Dio Oh mio Dio Ci fa pubblicità gratis Chiudiamogli il canale E' così che ragiona la nintendo Che tristezza Da parla di un Kirebin live Da parla di quella world su All Stars E beh c'è Ma non è quella world Vabbè Gli acidi Ma dov'è dare con Revenge of King Drugs Oh mio Dio Beh in effetti Sembrava un gioco Fatto tutto Basato su un trip Di acidi Bau 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 Eh si hanno sentito qualcosa Magari c'è un gatto Oppure è arrivato qualcuno No no Goriati tutti e due No No Ne intendo E' stronza Anche con gli sviluppatori Se per questo archive Cioè i giochi Nintendo fa bei giochi Però si comporta male Da nazista Spesso Quello che mi Mi è da fare In antipatica Infatti la Sony Invece Per tutte Cioè la Lascia un po' Cioè si comporta male Anche lei Ma almeno i sviluppatori Gli lasciano fare Quel cazzo che vogliono Eh Hanno lasciato la cosa di Crash Il green screen Per fare quello che vogliono Sì ma A me archive Mi arrivarono Cioè mi arrivarono Dove ti toglie Delle spede I giochi vecchissini Delle bad advance Così Che manco Se incurava qualcuno Quelle spede L'avevo fatto Per diventimento mio Cioè aveva una roba Tipo 300 visualizzazioni Un cazzo Praticamente A parte E così Non andava bene Quindi vabbè Che razza è il mio cane Teoricamente Ne ho quattro Barra 5 Che sono tutti i meticci Alla fine Non hanno delle razze pure Preferisco salvare I bastardini di strada Io Ah una volpina nera Di sicuro è bellissimo Noi arriviamo scherziamo Ma quanto è carina La scimmietta Sulla testa di spike Non è spike È jimmy O Icaro Ecco È pucciosina Sì Sogena What do you see Godzilla No È Godzilla È Godzilla È Godzilla Mamma Cosa Sì È Dell'ambringe Sì Sì Conoscete il mio Icarbandi Putto Wow 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 Penso che questo è bastato come risposta Io faccio il wow 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 Più potente di quello vero Sì È nera È femmina Al massimo è Dark Coco È Dark È Evil Coco È Evil Coco Oddio Che bella Se avessi un cane così La chiamerei veramente Evil Coco Pippo ci deve morire Ha un forte odio per Pipocci Pafangulo Wow 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 Eh Partono tutti in massa Quindi Shantan mi sta dicendo che visto che io ho un po' tutto cocker spagnoli Sono una merda di snob No 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 È che Non mi piace quando la gente vende i cani Perché appunto sono razze pure Non tanto perché Cioè Proprio perché li vendono Per me i cani bisogna regalarli Anche se sono razze pure E Io li adoro Cioè Se vedo un dalmata Se vedo un pastore tedesco Sono bellissimi Solo che Voglio salvare Quei poveri cagnolini Che sono al canile Che gli dagli una casa Un po' d'amore È questo Quello che penso Pipocci Beh Che cazzo è che fa Ah prima ha dato un biscotto Quando stavo morendo Sì Ho visto Crash Che cantava L'inno della cosa Eh S'era stato un remix Con Perché intendo Giapponese Quindi è stronza No ma Il giapponese È vero che sono indietro Ma non necessariamente È perché è giapponese È perché sono indietro loro Come mentalità È tutto Anche il fatto che sono indietro Con la mentalità Forse è quello che gli permette Anche di fare bei giochi Spesso Però I have six packs Due gufi Un drago di komodo E tre orsi E tre orsi Sono stupida Io lo so Per cavalli Eh però cavolo È pieno di animali particolari Cioè Oppure un drago di komodo A meno che non stai scherzando Che cazzo Perché se non stai scherzando Guarda ti stimo Che bello avere due gufi Chantalla brava la veterinaria No Non potrei mai fare la veterinaria Guarda Se più poche mi dà un biscotto Sarà troppo facile il gioco Ma vaffanculo Mi fa solamente un favore Sto Cazzo di cosa Non sto cambiando Come si combatte Devo ricordarmi Io mi piace che cantava Somebody Sì L'ho vista Ciao 4WD B O Non riesco a leggere È verde Ah boss 4WD Boss Ciao Ti chiamo boss Come quello di un taro Boss Do you know where snob comes from? Eh spiegano I biscotti della sonica No sei tu nabbo Lo so che sono nabbo Ah ah sei nabbo Ve lo sto vedendo Evangelion All'umorismo di GTO Se hai letto ho laggato io Ok eh All'umorismo Evangelion Veramente Evangelion Non mi dà proprio l'idea Di essere molto comico Come GTO Cioè GTO è proprio demenziale Certo Alla qualche parte divertente Dai Da qualche parte Ma da quello che ho sentito io C'è il protagonista Non ho sfigato Sempre depresso Emo C'è sempre la stronza di turno Che lo sgrida Fa un po' la zunderina Poi Poi l'ho detto I robot Non li sopporto Mi annoia Ma non sono dei robot Sono dei Non so che cazzo sono Quello che cazzo sono Sono sempre come dei robot Alla fine non mi interessano Eh Queste robe proprio non mi prendono Il mio pesche per il perito È l'uno perché ha bei tempi Una volta Avevo visto le mix Sulla membre di cash Che la musica di Windows La musica di Windows Il famoso tema principale Ma lo voglio cercare Anche se so che alla fine È sempre la stessa surfa Ma mi piace Ah che bello Infatti il Chirox lo dice Fanghaglion umorismo Sì Minchia Fanghaglion umoristico Ma in quale universo? Eh io perché non l'ho mai visto Non posso dire niente Ma non mi dà l'idea Anche avevo più gente Che mi seguiva la live Quando facevo cosa Lifeline che Actually in Cambridge Androx Iserci Only No But after No Non sono vegano Neanche un po' Si mangia il prosciutto Eh Mi mangio il prosciutto vegano Quello fatto con Solo Nizuka Che fan di quella serie Ecco Il punto di Fanghaglion È di trattare I mecha In modo realistico Con la depressione Dove lo vedete L'umorismo Ma io non ho Ma non l'ho detto io Porca Ce la facciamo Curiamoci A meno che lo dava L'Humbridge È umoristico Ma proprio perché lo è Apposta Ai sono Mamma mia Come è scritto Ai sonno Di mali L'ho capito adesso Che è scritto Ai sonno Che è scritto Che ho sonno Mamma mia Polpette di dingo Dai Cosi Le scarpe E le polpette Da che c'era Ecco E dato che è metà dingo E metà coccodrillo La parte di coccodrillo Ci ha fatto le scarpe La parte di dingo Se l'è mangiata E magari hanno bottoni Che si uccidono E poi piangono Ah Depressione Ah ok Ok va bene Mecha bandicoot Redda cena Ho mangiato il prosciutto Bravo Sei contento Dovete aprirvi un canale insieme Comunque Intrattenete bene Vabbè No serve Purtroppo Purtroppo Io non faccio molte battute Come Dj Che è molto più bravo di me Comunque grazie Lo apprezzo Ma tu dici Purtroppo Purtroppo Si dice Purtroppo Ah ok No perché Prima hai detto Sembra tipo che Sia purtroppo Ma si è stato il microfono E comunque Evangelion è serio Come non mai Specialmente The end of Evangelion Comunque Chantali I robottoni di Evangelion Passano subito In secondo piano Fidati anche a me I robottoni non piacciono Meno male Non sono l'unica Perché io Purtroppo Ho amiche Che sono fan di Transformer Ne parlano in continuazione Io dico Vi prego Smettetela Mi detesto I robottoni Anche se riconosco Che è un prodotto valido Che può essere piacevole Ma io non amo queste cose Oddio E' come mi uccide Perché ho fatto battere E' uguale al gigante Di ferro umano Cosa? Preso Oh Mamma mia Mi hai fatto prendere un colpo E' preso Il colpo Sono balzata dalla sedia E' detto Preso Dio che è successo E' tornato a Crimson Nel mentone Dannazione E' il bandicoot gear Dannazione Ma dove? Cortex Nano maledetto Cortex Oddio che bello Medaroth Eh quello mi piaceva Ma infatti i robottoni Dipende Se sono fatti bene Magari con delle personalità simpatiche Allora posso pure guardarli Ma se è troppo Basato Sulla tecnica Allora no Proprio no Eppure guardavi i Power Rangers Anche se Dio Sì ma La roba con i robot Arrivava alla fine degli episodi Il Megazord Arrivava alla fine Mamma mia Poi vedevi Tutti i rapporti con i Power Rangers I combattimenti stupidi Ma anche da piccoli Che stomaco bisognava Ebbene farsi piacere i Power Rangers Mamma mia Ma a me piacevano solo perché erano dinosauri I dinosauri sono fighi È che da piccolo Già da piccolo Mi sembrava una roba stupidissima Ma guarda Io se li guardavo Era anche un po' per noia Perché poi dopo Mi pare Facevano i Fanta Genitori Su appunto K2 Allora dicevo Vabbè aspetto E mi riguardo Brush Candy Mi sa che voleva dire Ah no aspetta Ah no ho capito Brush Candy Pensavo volessi dire Bash Bandicoot Dalla Fan Fiction Ah Guarda che devo fare Ah che Miche è principale Ad elia di Cortex Ma meca Bandicoot È un robottone Sì ma io non odio I robottoni In generale Anzi alcuni sono fighissimi È il contesto Per esempio Vedi le prime serie Dei Transformers Sono noiosissime Mentre ne ho vista Una dei Transformers Che era un po' più Giappominchia Ma faceva ridere Io sono amante Della roba comica E questo è il punto I Power Ranger Giappi sono molto meglio Almeno sono consapevo Di essere scemi Ma scusa perché sono Power Ranger non Giappi Anche E beh teoricamente È basato sui Power Ranger Giapponesi Io quanto ne so Tipo la versione europea Americana Hanno tipo Chiamato gli attori Per fare le scene In cui non sono In costume E poi quando sono in costume Mentre direttamente Quei giapponesi Sì sì Ecco bravo Ah che è la stessa cosa Power Ranger Stino Thunder Bravo Chantal E Daniel è un robot Eh sì Vabbè Mi piace Mi piace Ballare Non ve l'ho mai più In live con me E ora che gli ha detto La verità Sono fatto che sono un robot Ah che bello Cosmo Dei fantagenitori Bello Chantal Conosci pure La gun No Super È tornato su Mediaset Sì ma sono le repliche Quindi Non le riguardo Che mi pare Bisogna aspettare Fino a settembre No Sì Yey Squadra Gini Ma cazzo Mi sei noticito anche Sui sbord No Non ho uscito Sui battagioni Le santa Che dici Squadra Gini Superiore Power Rangers Fidatevi Loro sono fighi Senza Mega Gesù Cristi Ma che cosi Chiamiamo il Mega Gesù Cristo Ma quello è un Megazord Non riesco a trattenere la figaggine Grande Yotobi Che Spider-Man aveva un Megazord Sì Conosci Steven Universe Sì mi piace moltissimo la serie Ha dei punti morti Ma i punti belli che c'ha Sono davvero davvero belli I Power Rangers Sono basati sui Takusatsu Jappi Ranger Jappi Fanno un remake americano Per ogni serie giapponese Ho visto un paio di app Per comparare Non sono una grande fan E una conoscenza generale Ah ok A chi piace Inuyasha Dov'è che c'era sto commento Da me è sparito Ah ok Vabbè sì ma io sapevo Che appunto sono basati sui corsi giapponesi Infatti io Ho sempre usato i robbi giapponesi E basta Non pensavo fossero americani Non mi ricordo una volta Hanno fatto un episodio Dove appunto Gli attori americani Guardavano un episodio Dei Power Rangers giapponesi Era qualcosa di strano Vabbè tipica roba americana Sì sì Cosa ne pensate Gli otobi A me piace gli otobi Lo guardo sempre molto volentieri Perché il suo umorismo È molto gradevole Io non lo guardo più Da una vita Ma perché non guardo Nulla su YouTube Da una vita Vabbè uno cresce Che non siano Pochi Pochi quelli Quelli per me Crescente Ma sposa Il 4 PS2 È in direct Xbox È per la prima Xbox C'è anche Se la persona è inferiore Con Grafica piatta E senza ombreggiature Senza ombre Senza un cazzo Però non è per la 360 È per la prima Xbox È apparso un DJ Selvatico Sì Sì Ciao DJ E tutti quanti che lo salutano Vabbè ovviamente Toi Toi Gli otobi Che cazzo Mi ha seguito solo la serie Sui Power Rangers C'erano dei samurai Ah sì sì Ma ne hanno fatte tantissime Ma gli americani Sono tutti scemi Poco fa Lo sapevo già Ma tanto l'ho visto lo stesso Ho visto una scena Nel film di Brody Il ritorno di Brody C'era tutta la musica Tipo AMV Sotto Nel doppiaggio vero Se l'unica umana Tutti sono robot Pazienza Io vedo più Chantal Robot che gli altri umani Io sono Chantal Prego Inserire il flopino Buona ciao ancora Ciao Muzunna Ciao Ciao Muzunna Ragazzi per ora Non posso entrare Perché non sono proprio a casa E tranquillo DJ Tanto non ti aspettavo Che c'era via a mezzanotte Figurati E infatti non c'è Non è a casa E appunto Quindi Dopo arriverò Ecco Lo sta garantendo Non regalare Qui per gli Steven Universe Che odio la sua community Io Quanto praticamente Guarda io sono metà Quello che hai detto tu Perché odio Steven Universe E non mi piace No scherzo Non lo odio Non l'ho mai visto Semplicemente Guarda Tranquillo Non sei l'unico Perché io e le mie amiche Non sopportiamo I fan Che Fanno stupide Fusioni Stupidi shipping Insomma E come tutti i fandom Del resto Uno Vedete come Il programma Vedete come I pesi di Spectre Con il copyright Eh Spectre E' Un bravo personaggio Però C'ha L'ha reso Molto meno minaccioso Negli Epscape Post Epscape 1 Non è mai uscito Perché Inchiuso Deva farci Il port Ma ci sono riusciti Per motivi Di Di Spazio Spazio Che ti ha Passato Qualcosa Di Whatsapp Ah ok Adesso Controllo Che ho lasciato Il cellulare Da un'altra parte Ecco Comunque Ho provato La versione Xbox Di Twin Cities C'è Tipo Tutte le ombre Che non ci sono Boh Non so Perché l'hanno Fatto così male Dì E che in teoria Xbox E' più Potente Della play 2 Però Ma Adesso Molti giochi Di quell'epoca Quando uscivano Su Xbox Avevano dei pot Brutti Sa che Avendeva meno E qui ci metteva Meno impegno Boh Che pur avendo La cosa più potente Venivano fuori peggio Non so perché C'è Altra Adesso non c'è Divatfish Torna dopo So che non c'è Perché non sento più La sua voce Ok Sono tornata Che ho visto Quello che mi ha mandato Come vedete C'è Non c'è Non c'è Non c'è Che si Gli parlato Ma che cosa Stai dicendo Ma Dani Mi riesce a sentire Mi sto Preoccupando Guarda che il mio Microfono Alcune volte Fa dei capricci È meglio Trollo Hai trollato Male Ti sei preoccupata Quindi non ho Trollato male Non si fanno Questi scherzi Io di ship Ne odio una La japis Jasper con lapislazzoli È Quello è un rapporto Non sano A meno che non mostreranno Jasper in futuro E faranno vedere Che è cambiata Ma per ora È soltanto Un rapporto malato Un rapporto Senza veramente Amore Quindi non va bene Archive PS2 Xbox Cioè La play 2 Era veramente Impossibile Da programmare Cioè Sony Dava Dei Development kit Che erano buoni Ma hanno iniziato A darli dopo I giochi iniziali Era veramente Un casino Invece Ma è con quanto Precision 3 Però era un po' Un casino Xbox Era facile Da programmare Però il fatto Che aveva venduto Una roba Tipo 10 milioni Di copie Cioè Paragonato Ai 150 Della play 2 Per me Metteva poco budget Quando un gioco È una multiplataforma Nel port xbox Molte volte Perché appunto Che se non ci Poche copie In giro Dito Che cazzo Ce ne fotte Di farla bene Tanto ci giocheranno In due Se Leggi qua Red dovevi Continuare a farla Cacare sotto Ma guardo Siete Sadici Infatti L'altra volta Fate tipo Ma come è carina Chantal Che bella voce Chantal Oggi Che è C'è uno che ieri Aveva detto Tipo Hai una voce Adorabile Ma guarda Io preferisco Che dicano Queste cose Piuttosto Che dire Eh ma Quando sei Bella Eh Che non 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 Che mi dicano Complimenti Piuttosto Quelle cose Insomma Comunque Specter La play Impossibile Da programmare Allora WTF No E la play 4 E' semplice A programmare La play 1 E' semplicissima Da programmare Tant'è che Del sony Dava A cazzo Di cane I tool Per programmarli Con Nette Rhodes La play 2 La play 3 E' difficili Da programmare Non impossibili Ma Fino a che Non si davano Fino a che Non hanno Sviluppato Un buon Development kit Facendo una fatica Bestia A programmarci Bene L'Xbox In generale Non è ancora Emulabile Principalmente Perché usa Una GPU Dell'Nvidia E Praticamente L'Nvidia La documentazione Su come funzioni La scheda grafica Nvidia Per l'emulazione E' Scarsissima Quindi L'emulazione Xbox E' Tutta software Non è ancora Emulabile Per quel motivo Lì E anche Perché c'è poco Interesse Nell'emularla Comunque Ma pure Per dire Anche la play 2 Non è che Siamo molto Tanto Emulabile Io adesso So facendo andare Pescape 2 Perfettamente Ma Se tu vedi Quanto è difficile Fare andare La maggior parte Di giochi Vanno tutti Di merda Cioè Vabbè Che tu dici Che Jack E Ratchet Non ti Rafferano Un cazzo Però Sono due giochi Tra i migliori Per dire Non ne va Mezzo Cioè Perché appunto È complicato Poi ovvio Che se fanno Giochi Che usano Che non Sono pesanti Da emulare Quanto loro due Tipo appunto E Pescape 2 E 3 Girano bene Anche su computer Adoluti Chantalio Ti provocherò Sempre Ricordatelo Anche perché Come si fa a dire Sei bellissima Ad una persona Che non si conosce Bravo Bravo Hai detto La cosa più intelligente Di questo pianeta Chantal Ma Dani È Coprogafo Cosa? Coprofago Semmai Ecco Coprofago Coproga Non dico a te Dico a lui Che ha sbagliato a scrivere Ah ecco Perché hanno chiesto Questa cosa? A caso Ha chiesto Molte cose intelligenti Sì E Pescape Con le texture Epilettiche Bei tempi E con bei tempi Dico Che io ci giocavo Lo stesso Non me ne fregava niente Che c'è tipo Le texture Dei biscotti Sul muro La faccia Di Biscotto Sembra che si chiama Icaru Sul muro Sì Gj Invio mentre registri Va bene Non fai la teologia Rimasti tanto sempre schemi Perché la compriamo solamente Io e Archive Gabri È quello il motivo Anzi forse neanche Archive Perché dice che la 3-4 Che la position Non gli piace Stavo pensando a Morandi Cosa? Eh ti capito? Non posso Ho le mani occupate A giocare Poi dopo la live Ci guardo Ma di più Crash of the Tenza Sono Mind Mind Over Mutand Mutand Girare senza mutande Scomodo Molto materiale per YouTube poop Dannazione Copyright Dani l'avevi fatta la reaction ai 16.000 iscritti Eh non c'ero in live 16.000 19.000 Vabbè pardon Eh Non so leggere No più che altro Regrediamo No Io Angelo lo so che c'è il modatore Della 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 aiuto Della Xbox Però Non funziona mica tanto bene Non c'è ancora l'audio Figurati Ma è mancata di interesse Semplicemente L'Xbox Ok Emuliamo l'Xbox Che ci giochi su? Halo C'è per PC L'unico che mi viene in mente può essere Jet set radio Ma anche quello lì Se non sbaglio È uscito per petition Tremo In h Diciamo Anni fa in hd Quindi L'1 è mio preferito Chiedono qual è il tuo happy escape preferito L'1 Perché è la mia infanzia Sennò Ma sono tutti molto simili tra loro Quindi non so bene Decidere la quale Però dico l'uno appunto Perché è la mia infanzia A crash of the titan Si può giocare in due Sai Dani? Io l'ho giocato in due La prima volta Si con il carbon crash Con la roba lì Se esce una peschetta Su percepito qualsiasi Compro anche in duplice Duplice copie EU e jump Ah beh c'è È uscito In dico con il network La versione Emulata Se vuoi Usato e non li compro quelle cose But the creepypasta The best of pets 2006 Doesn't have sense Usato e non li compro Usato e non lo so At Juventus FC Eeeh E boh Non lo so Perché io non Non so Non seguo il calcio Eh ma a quanto pare Non dovrebbe avere senso In quella In quell'anno Ciao the best in Italy Ci vediamo più tardi Ciao In 2016 In 2006 Vabbè Vabbè si dai 16 6 19 mila 15 mila Sbaglio io Sbagli pure tu È che Chantal e io Siamo sincronizzati Negli errori Capito Quando lei sbaglia Tu sbagli anche per forza Per contratto Devo sbagliare Però non c'è Quella vocina Dietro Che grida Coglione Di gg Gg è angry guy Vabbè Intendo fisico Col più e seno Aspetta tranquillamente Quando ho preso Quattro per altri giochi Che mi testano Relativamente meno Eeeh Vabbè Ma io Alla per quattro Ti dico Non mi fa impazzire Manco a me Ma in realtà Neanche la perità Mi ha fatto impazzire Più di tanto A parte alcuni giochi Non è che ci fosse assai Che mi è piaciuto tantissimo L'unico che mi è piaciuto Veramente Che ho giocato un bordello È proprio Allstars Che a te non piace Quindi Per dirti Che beh Che in realtà Un sacco di gente Non piace Neanche Quello Dico Però per dire Ma da quando Le creepypasta Hanno senso O almeno Quelle che Recensisce Dani Eeeh Non hanno senso Ma le creepypasta Non hanno senso Punto Non è che ce ne scopazzo Pure io Di quello che fa Sony Adesso Vedete comunque Che non è che Posso farmela con Sony Sony fa semplicemente Quello che segue Il mercato Cazzo C'è un bambino fuori Che urlano I bambini Che urlano Sì C'è un bambino Che sta facendo Oh non c'è la luce Non c'è la luce Oggi Non c'è la luce Cosa stai dicendo Sei impazzito Cioè Invece del grillo Adesso hai il bambino Impazzito Minchia Ma che cazzo urla Ma sta bene Qualcino C'è non urla Perché non c'è la luce Ma la luce dove Che sei per strada Run away Testami Cazzo Cosa Eeeh Demonicion Nessi Demonicion girl Mo Lifeline Io l'anno scorso Ho avuto regalata La ps2 Con un bordello Di giochi Scusa Ma come l'hai formulata La domanda L'hai fatta A te stesso Di cosa sappiamo No Che cosa ti hanno regalato Dobbiamo Azzardare Avrei Avrei pensato che Allstar scopresse Smash 1 E avesse un roster Decente A me i gameplay di Smash 1 Non mi piacciono più di tanto Mi piaceva quello di Allstar Sinceramente Proprio per le combo E tutto Per il roster Sì Sarebbe stato meglio Se avessi avuto Un roster decente Però c'è anche da dire Che molte altre persone Che Molte altre personaggi Non li poteva mettere Tutto Anche perché Ovviamente Sonic Che a testa di cazzo Ha deciso Di risparmiare Sul budget Comunque L'unico gioco Della play 3 Che ho giocato Abbastanza Poi graficamente Mi fa male Al cuore Vedere i personaggi Iper realistici Accanto a quegli anime Fatti pure male Cosa che Smash Bros Non fa No Cioè scusami No Cioè metti Di fianco Marte E Snake O Pete Snake In Brawl Cioè La puttana Mi sta Facendo il culo Ops Ho messo Il punto interrogativo Eh Gabri La prossima volta Stai attento Se no Vabbè Ci hai fatto ridere Dai Tutto fatto Comunque Non avrebbe avuto senso Mettere Drake In formato cattolo Animato Per dire Drake per esempio Anche Kratos Anche se non c'entra niente Prototype o Infamous Secondo te Devo anche rispondere Dopo che abbiamo passato Una live E Claudia A dire che Prototype E il ripoff Di Infamous Cosa Abbiamo passato una live Io e Cloud A parlare Del fatto che Prototype Fosse il ripoff Di Infamous E quello mi chiede Prototype o Infamous E quello mi chiede Prototype o Infamous Intanto Intanto Nintendo A Cloud E Sony No Cloud che non c'entra un cazzo Con la storia Nintendo Ed è il meno rappresentativo Per la storia di Final Fantasy Su Nintendo Ma infatti Secondo me Non c'entra un cazzo Cloud Su Nintendo E' stata una puttanata Mettere C'è L'unico gioco In cui è apparsa Tipo Un gioco Ritmico Per il DS Ma io Smash 4 Ho provato Semulatore Archive E Boh Non ci gioco Perché non c'è Senti in mezzo Però Ok Si è vero Che c'è uno stile Un po' uniforme Però appunto Ehm Bayonetta Hai detto bene Ma anche Ma anche solamente Mettere il Metroid Insieme a Kirby Non è che ci stanno Poi così bene Come stili Anche se è abituata A vedere assieme La Smash del 64 Ehm Red Hanno detto Ci devi dire La tua Su una possibile Creepypasta Sul bambino Che urla Non c'è la luce Non c'è la luce Please Lo dobbiamo sapere Noi dovrai prima Battermi Ma questo è possibile A meno che tu Non riesca a fermare Il mezzo Non posso dire Creepypasta Sul bambino Che urla Non c'è la luce Non c'è la luce Ecco Guarda Quel Cazzo di cose Creepypasta Ma perché Stai Dopo i boss Sta scritto Scimmia catturata Scimmia catturata Perché catturi Il boss Non sto dicendo Che Smash Fa schifo Perché appunto Io ho un canale Dedicato a Smash Che ho Migliaia di video Dico semplicemente Che voi Ehm Se posso dire Mi apri su quell'altro Stop La schimmia rossa Ma A A A Fanfiction Su Drake Che picchia crash Cosa Quello Debo Una stonzata Su Nintendo Come fa Un pulpa Ad azzeccarsi Qualche cosa Donate Se volete Un cambiamento Perché è doppiato a Milano o a Roma? È doppiato a Roma Eppescape Oddio, c'era qualche doppiatore di Milano in tre Ma appunto, sì boh Ma è strano perché quelli di Roma costano di più Non so perché cazzo Abbiamo chiamato Eppescape Budget enorme, non è che ce l'abbia Cosa facciamo? Devo colpire quel cazzo di scimmia di quel cazzo lì? Oh Se non è in traduzione si è scritto scimmia catturata Oh, un biscotto, meno male Qui si parla ancora di calcio E tutti sono molto sorpresi di come Akex Conosca le squadre di calcio italiane Eh ma se si interessa anche di questo Io non... Affan! Io non le so io le squadre di calcio italiane che sono italiano Figurati È che non sono interessato Oddio cazzo c'era la cosa Andar veloce, ma che fa? Mi imita Giustamente Ciao King Master No Oh ma che carino Un ritorno inaspettato Ma bombarda pure questo Isis No per l'ultimo secondo l'ho beccato Ma è il tipo con Antonio Spectre No è la scimmia bianca È il nonno di Spectre No scherzo, non le spiega Non le spiega nemmeno credo Però è fatto che anche il spectre C'è una scimmia bianca fa pensare Usa il cerchio e si sta gridando Eh sto usando il cerchio È tutto lo sconto che sto dando il cerchio Ma sarebbe bello vedere una tua live Su Toy Story 2 per PS1 Non posso Ci sono le scene del cartone Del cartone del film So che non può saltarle Però comunque qualche fotogramma Scapperebbe lo stesso Ma le schimmie su Allstras Eh ci sono Devo fare volare anch'io? No mi fa il culo se volo Quanto è citato il tizio Che doppia la intro Della Inzen Trilogy È lo stesso di Un ritorno inaspettato Sviluppato da Vicarious Visions Crash Bandicoot Che bello Poi è bello Cortex Che contento che è ritornato Sicuramente Beh penso che alla fine Se è morto Crash Muore pure Cortex Sì ma Salta le scene del film No Red Eh ma non è sicuro Metti in caso che poi dopo Per qualche ultimo Mi imparte Non lo so Non rispetto che c'è una storia Sbloccabile da leggere nel 2 Ah ok Vedi è mega esperto Archive Eh sì Si è visto Un ritorno inaspettato Che ho fatto Ho capito che hai un gg in te Ricordato sempre Non posso bloccarti nulla di toy story Eh sì certo Hai un gg in te Un gran gg in te Ho capito che ho fatto anche Zebby Dove trovare più che altro modo per Cancellare i filmati E che sono paranoico Poi era tipo Non si scarica il controller Mentre hai fatto un filmato E non riesco a schippare Sarebbe vero vedere Dani e Chantal Con un abbigliamento Da comunisti Cosa Perché Perché è Vladimir Putin Giustamente Ah beh ovvio Dammi un po' di cazzo di biscotti Ma vaffanculo Se sto riedendo La minchia Che cazzo Un ritorno inaspettato Anche se lo avevano già spoilerato Eh dettagli Oh biscotti Grazie Ah solamente due Ma vaffanculo Il mio FIFA preferito È scimmia calcio Monkey football Oh ma ce la facciamo E intanto siamo a 40 spettatori Grande Non mi ero accorto Dell'ascesa La scena Eh ma ti piace Marsha di Benedetto Su Specter Io ho un intelletto Supremo Ma no Non ci sta male Comunque L'unica cosa Che fa strano Perché doppiava Coso In Epscape 3 Ma do Come cazzo si chiama Io lo chiamo Kei Ma so che non è il nome Vero Vero quello Quello giapponese Vabbè Kei Doppia Kei To Quello che ha capelli blu Si è molto meglio il negozio del tra cazzo Un ritorno inaspettato Mecha bandicoot Perfetto Che poi è lo stesso doppiatore che ha doppiato Mr. Bean Mi sa che solo io ci ho pensato Cosa? Non lo so neanche Giocano anche Il mochi football Io sto cercando di sbloccare il mochi football apposta Ma E' da due ore che Sto schifo qua Non me lo da Non me lo da Porca puttana Che succede? Eh c'è il grillo Il ritorno Il ritorno Vuole fare la live con te Ricordate che se c'è la guerra E' sempre colpa del lauree Era un grillo Sempre colpa dell'aura Scusate per lo strillo ma Mamma mia che palla sta roba C'è un cheat per sbloccare direttamente il mochi football senza non persi il cazzo Sai che c'è? Ah c'è la scimmia ninja che dava un cazzo nei coglioni a coso a Jimmy Scimmia Balla scimmia balla ma no che schifo Mamma mia che schifo no no Ma ragazzi non commentano più perché sto cercando di prendere scimmia calcio C'è il continuo della lyrics Se il gj Non l'ha dritto e ci sono duemila chantal qua Ma un attimo ma Basta solo ricordare che C'è un gran gj in te Te l'ha dedicata a te Aspetta tre doppiatori Su quattro di Spectre si chiamano Massimo Massimiliano e Massimo Beh i doppiatori di Spectre sono Aspetta Massimo Marinoni che è quello dell'uno Massimiliano che è quello è E Massimo di Benedetto Chi è il quarto che non Non mi so agilmente chi è il quarto di Spectre Una foto dei nemici Un ritorno inaspettato Grillo Bandicoot Raid the Flame Flame Fox The Watt of Grillo Però mi fate pensare più al comico così Comunque sorry archive se dico i nomi americani Ma sono abituato con quei Ma io Kakarui non lo chiamerò mai Kakarui Lo chiamerò per sempre Spike Per tutta la vita È arrivato quattro Ciao quattro Ciao Perché Spike E penso che è pure nella mia infanzia Si chiama così Nella mia testa è sempre Spike Chantal Si Is better than having a bank account with Seven zeros Capito Sai cantare bene Chantal Grazie Thank you Ah archive 4 Mi sa che si conoscono Un ritorno inaspettato Gesù Cristo Ma no Un arrivi inaspettato Quella cazzo di monkey football Sai che c'è Mi sono giocati i coglioni Ma ci fanno il meme su questo Ma io non so come fa Un ritorno inaspettato A non essere un meme Mi fa dopo ridere Appunto Activision presenta Un ritorno inaspettato È proprio felice Ma già il doppiatore Si sente come gli piace Doppiare Cortex Senti come è felice Quando ti è tornato Gli albani Eh si Come alcuni doppiatori Che era un anime Del basket Slumdunk Mi fare si chiama Dove si vedeva Si sentiva proprio Che si divertivano A dire certe cazzate Di quell'anime Quella era bellissima Era tipo Stile ct Odio I draghi Red Fox Wars The Grillo Returns I draghi Ok mo sono i pirati Che c'è Obbligatorio livello Con i pirati In qualunque gioco Platform Un ritorno inaspettato Il prosciutto Un ritorno inaspettato Sviluppato Da prosciutto vision Chantelle ma quindi Ho appena inventato Un mince Che bello Eh si A quanto pare Sì Ormai lo stanno facendo Tutti Un ritorno inaspettato Oggi non c'è La luce C'è in realtà Si dice meme L'ha anche confermato Akex Che poi si pronuncia Come si dà genitaliano Ah ok Oh bene meme Ok Brava Oggi non c'è la luce Oggi non c'è la luce Un ritorno inaspettato Una luce non presente Oddio Preferisco spike a Kakeru come nome Bravo 4 Un ritorno quarktastico Come cazzo si spengono stia cosi Ah con la nuova arma Mi sa Minchia finalmente Seguito di Rosco McQueen Ma ma archive Infatti questo spike Non è un nome americano Spike è un nome del regno unito Gli americani l'hanno adottato dopo Eeeh Fine Spike e Bud Sono nomi del regno unito E d'europei Quindi non si può fare niente Da bimbo vision Esatto esatto bravo Francesco Sì quando parla in napoletano Che fa prezzemolo e finocchio Yum yum Tutto così Cos'è? No c'è appunto quest'anime di Di basket Molto comico E uno per portare Il sfiga Al giocatore opposto Della squadra opposta Inizia a parlare napoletano E dicendo yum yum Prezzemolo e pignocchi Yum yum Così E veramente poi di porta spiga Era bellissimo E come è stato reso Quello è doppiato tipo Ghost stories Che è quella puttanata Cioè che non c'è da niente Quella sono in italiano È fatto bene Veramente È fedele A meno credo che sia fedele Comunque è il come si sente Che si sono divertiti A doppiare quei personaggi Sì ma in Europa Non lo so più I nomi americi Per escape In America sì Ma ha i nomi americani Americi Non Cioè vabbè Jake sì Ma Spike è un nome Europeo Quindi va bene È kakeru Detto Spike Ok Vabbè che sbagli tutte le pronunce Dei nomi Non le senti Dei cat-chi Sorry Che con la live E leggere tutto Mi È che i nomi Ti giuro Quelli giapponesi Non so perché Con quegli anni Li ho rimossi tutti Poi mi si ripete Che quello si chiama Ikaru Quell'altro si chiama Eccetera Però Poi dopo Mi discordo Dopo una cosa mia Guardate Cerco di pronunciarli bene Ikaru Sayaka Ah no Perché usa il pronuncio italianizzato Sbiuppato da Cloud 97 Ah perché Ho capito Perché mi sa Che usano le pronunce Italianizzate O ora mi ricordo Che è Ikaru E Sayaka E quell'altro Com'era Satoru Così Che in realtà Tu che sai un po' Di giapponesi Sai sapere che in realtà Si pronuncia così Irochi Han chiamato Buzz in Europa Sì lo so Che han chiamato Buzz È il nome migliore Spike E Buzz Ma io credo Che i nomi Quelli lì Siano stati presi Creati per la versione Europea E però Gli americani L'hanno L'hanno cambiata Credo Perché appunto Buzz Fa ridere I nei pacati Mi due Usano nomi Giappi Anche per I pg dimenticati Come tipo Haruka Irochi Irochi Era Buzz Sì Haruka Elga In America Pensa che Questo qua pure Io mi ricordo Che si chiama Haruka Però so che è Elga Solamente perché L'altro giorno Ho giocato a Thumb and the time in live Se no mica mi ricordavo Che nome di merda Elga Cioè non è che nome di merda Però Per una bambina Dai Che cazzo Un ritorno inaspettato Carne fresca Da mettere in ventola Un ritorno inaspettato Carne fresca Da mettere in pentola Spike E Buzz Spike No no Correte tutti e due Correte tutti e due Bei tempi Eh vedi Siamo in trattato Del doppiaggio Di Veneto Del professore Però nessuno Dice a quello Del basket Che non si parla In napoletano È una battuta Non mi starà Correggere Ci sei ancora Chantal Ci sono Ci sono Sto controllando Un po' la chat Anche se è un po' Ferma Un ritorno inaspettato Il server Il prestigio Nostas No Ma non c'è Il server Il prestigio Nostas È un peer to peer Appunto Dice Ah no È un peer to peer Non c'è mai avuto I server Un ritorno inaspettato Un ritorno inaspettato I server Sono tutti basati Sull'utenza E che è una garanzia Perché vuol dire Che non chiuderanno Mai server Però è anche Una seccatura Perché Che poi La doppiatrice italiana Di Kakeru E Iroki È un'attrice Che ha fatto film All'estero E cosa Ilaria Delia No Io ho sempre pensato Fosse lei Che poi è anche Quella che fa Merit E Bianca Inspiro 3 E Quella di Destra Rega Che ora non mi viene in mente Come si chiama Cazzo Un ritorno inaspettato Cloud 97 Na 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 Ma cioè ma Archive Scusa tu I nomi del doppiatore Di Metal Gear Di Metal Gear Di Ape Escape Come fai a sapere Chi sono Mica viene mai detto Nel gioco Povero Akex La sorella Si sta impiegando Un sacco di ore Per truccarsi Eh beh Tipico delle E lui doveva uscire Due ore fa Un ritorno inaspettato Ehi Quella renna Parla Una voce Da ticardi Wow Quella renna parla Si ma con me E' brava A fare sti due bimbi L'ha avuto lo scazzo Infine Si sente dalla voce Eh ma è perché Per escape Non so che è successo Ma è stato doppiato Mai dappertutto Per me è capace Che i giapponesi E' andato le frasi A cazzo Senza spiegare Un cazzo Di niente Le totò Doppiate Veloci Anche Eh no Dicevo archive Appunto Te lo chiedevo Perché Cioè i nomi Di quei doppiatori Lì non si stanno Da nessuna parte Se non per Metal Gear Ma non è che Akex ci trolla Ed è italiano Eh un po' Mi fa pensare Pure a me Però può essere Appunto un americano Che gli piace Infatti Tutto ciò che riguarda L'Italia Può essere E poi oh Per quanto Possa divertirsi A trollare È dall'inizio Da quando faccio Le live Che c'è Quindi Poi alla fine Il suo trollare Non è nemmeno Tanto fastidioso Se fosse vero Eh Anche perché Sta dicendo cose Interessanti Comunque Per me Nel doppiaggio Per escape 1 Quello che doppia Meglio è Spectre Cioè Massimo No Ciro Carraro Pardon Cioè Fa proprio la voce Da minacciosa A me piace Come la fa Noemi dice Che Spectre È il migliore Un ritorno Inaspettato Risoscotti Un ritorno Inaspettato Mi hai rotti I coglioni Un ritorno Un ritorno inaspettato Risoscotti E che riso Un'americana A cui piace l'Italia C'è qualcosa Guarda che non cosa Ma guarda che gli americani Amano l'Italia Gli americani Cioè gli stranieri Amano l'Italia Sono gli italiani Che non l'amano E' sbagliato Noi dobbiamo Certo abbiamo Una politica Che fa schifo Altri problemi Come tutti Ma abbiamo cose Che gli altri paesi Se le sognano Sarà bella la politica Americana Con Trump E' l'unico Che si è sforzato E ma Ma in realtà A me piace di più Quello di Nella play 1 Di Spectre Che quello Del 3 Per dire Cioè è proprio Più minaccioso Si sa che comunque Spectre è diventato Molto più Dottorgone Negli altri E' per esempio E' meno minaccioso Già di suo Come personaggio Quindi è anche giusto Che l'hanno fatto così Però Ah ecco Akex dice che Suo nonno No Grandfather Si si Suo nonno Era Italiano Ecco perché Ma Red Flame Perché hai 3 canali Ecco Questa è una domanda Interessante Perché Ogni canale Ha un contenuto Diverso Il secondo E' il migliore Per la presenza Di Massimiliano Alto Massimiliano Sei alto Cheat E si allarga Oicino Un ritorno Inaspettato Nessun ritorno Che cazzo fa Un grande Un grande Grandfather Era italiano Ok va bene A me piace Comunque come doppiato Per scape 3 L'unica cosa appunto E che secondo me Cioè non so A me piace lo Spectre Minaccioso e tutto Però appunto Nel 3 hanno Nel 2 e nel 2 e nel 3 Nel 2 e nel 2 non ho ancora visto Lo vedetti ma non mi ricordo più Ma nel 3 ha molto più personaggio comico E tutto Invece 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 nel 1 appunto è molto più minaccioso Qui ci sta il cambio di voce Più Più Boh è carino come livello Non ricordo che non sto trovando L'ultima scimia della penda Allo sono due Due Trump meglio di quella schifosa assassina Guerra fondata E vabbè tutti Era Clinton Ma nessuno dei due era meglio Mi ricordo che Fra i candidati Ce n'era uno abbastanza Decente Fra i due Però alla fine È andata così Mamma mia L'altro insetto Porca putz Alla fine Ci hanno rimesso gli americani E sono loro adesso La barzelletta In quanto a politica Non più gli italiani Ma lo siamo entrambi Sì Solo che È stato bellissimo Su Tumblr Tutti quanti hanno iniziato a fare Che l'Italia Prende per il culo Appunto L'America A dire Eh Adesso non sono più La tua barzelletta Ma io la politica È un argomento Che proprio guarda Non iniziamo con la live Che dopo si fa come l'altra volta Sì Sì Come con i porno No comunque Lo spectre coccoloso Allora ti piace sicuramente Quello dell'anime Dell'anime Ehi cotta Dove sei cotta Ma no ma che cazzo Si sono fumati Quando ha fatto diventare Spectre La scimmia Di 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 Oh Io lo dico Lo dico Cati Ma non mi viene in mente Quale il nome Giapponese Natsumi Ecco Io sono il dio della figa Ma che Cosa? Crimson il mentore Dice che è il dio della figa Va bene Ok Non diciamo nulla Al riguardo Preso Ok Fissolini No si chiama Acuta Ah mi ricordo cotta Io mi ricordavo Ma Erika l'ho visto tre anni fa Quindi non è che posso ricordarmi Se io ho Vaghi ricordi Del cartone Di Appescape Cera Petta Spike che andava in giro Per i posti A catturare le scimmie Che il casco Le rendeva Tipo satani Che demonia Che è una roba strana Non so Magari è il fansub Che l'ha fatto male Ma comunque Spiegava il casco Come se fosse una cosa Minchia Che Del demonio Che non so E poi mi ricordo Che a un certo punto Ci sono due scimmie gay Che si sposano E cioè Tipo catti Che si incazzano Non ho capito perché Anikistar chiede Come stiamo Tutto bene Ce la passiamo bene Dai Tutto bene Tutto bene Sto bene Ragazzi non parlate di politica Se ci sta pure i gg Che poi comincia a sparare Cazzate attenti E noi amiamo i gg E non vogliamo sentire stronzate Da noi No non parliamo di politica In generale Perché alla fine Non siamo molto esperti Ecco Sappiamo solo Che Trump È cattivo Fine Ma già dicendo Che Trump è cattivo D'anno Tua opinione politica Ti ricordi Quando giocavi Di akdex Con il moonjump E tu i gg E tu hai scoperto Tutti quei modelli Stai nello sfondo Secondo te potrebbe essere Un jack2 diverso Da quello attuale Ma era jack1 Ah no Quello lì No ma quelli lì Sono secondo me Modelli a caso Che ha messo dentro Magari li hanno scartati Per il gioco stesso No è vero Il mio primo secondo è ironico Non sono davvero demonico Mi ricordo che appariva Aruka A un certo punto Che era tipo Una Una persona famosa E tante altre cose strane Mi ricordo solamente Che l'animazione Era bruttissima C'era il 3D più brutto Che quello Della play 2 E il fatto Che abbiamo fatto Una serie tv Sempre scape E non l'abbiamo fatta Su jackdress E eccetera Clank Toglie tutto il senso Dell'esistenza Ma è meglio che il budget Forse DJ dice Ragazzi la politica no Che nessuno è mai d'accordo Su nulla E leggete me Mi candido a presidente Del canale di Daniele La sigla di Spectre Che è Il tema del boss finale Eh ma non è una rubrica Quella del bootleg cover Se abbiamo gestato due volte Basta E abbiamo diviso In centomila parti Perché era lunghissimo Oddio Francesco Ma cosa scrivi Potrei ingrambo Tuo figlio Non credo Che ti piacerebbe E per schede Famosi in Giappone C'ho pure il manga Eh famosi in Giappone Ma il gioco non vende Quello è il problema Se almeno fosse famoso E vendesse E come sono un po' Contraria A fare prodotti Con basso budget C'è Se ho un prodotto Nuovo E ci punti poco Allora ci può stare Ma se è un prodotto Che tra virgolette È già riconosciuto E tutto E c'è Che ti dai Più Più Notorietà A fare una roba Basso budget Rischi che Che l'immagine Che l'immagine Che l'immagine di quel prodotto Lì Venga associato Al basso budget C'è Vedi Sonic Sai che brutte Vabbè che è ancora vivo Nonostante tutto Stranamente Però Sai che Battosta Ha preso Con 2006 E boom C'è Che quel mona Che sbatte le porte E chi chiude urlando Minchia Vogliamo Quattro Vogliamo il crossover Chicken little E E per escape A caso Sì Vabbè 2015 Non è mica tanto tempo fa Cazzo In Europa Non è su un escape Da 2000 E 5 Voglio dire E insomma Sì Ecco possiamo dire La stessa cosa Di Crash Bandicoot Prima di Insegno Di Dornation Un Crash Bandicoot Dal 2006 Tipo C'è Quindi Punto Stanno tornando I anni 90 E tutte queste cose Minchia torna anche per escape Che figo Ti immagini Chicken escape Un ritorno inaspettato Corri Scappaccia il nemesis Chicken escape C'è spike Che devi inseguire A Crossover Chicken little E il dragon ball z Sagas Ma è già Il crossover Che c'è Little chile Texture Di sagas Quindi Red Cosa ne pensi Di mortal combat Della serie O dell'ultimo uscito Della serie La serie È che Non l'ho mai seguita Assai Nella storia Però Ho giocato al 9 È carino Volevo giocare al 10 Ma la versione pc Ho visto che è fatta malissimo E dipendo Perché la preguata Non mi va Però C'è un limonks Per la preguata È figo Compare Satoru Nudo A Spectre E ci tengo che lo sappiate Bene Abbiamo saputo una bella cosa Classica dei manga giapponesi Cosa? È che Compare Satoru Nudo A Spectre Ah Mi fa piacere per Spectre O per Satoru Non so Satoru è ok Sì ok ok Quello del star Oh Ok Grillo Grillo? No Sono caduto Ah ok Meglio caduto Che Grillo Eh basta Eh che ne pensi Del figlio di Chantal Ho un figlio Ma Chantal Dove avvisarmi Che avevo un figlio Sì ho un figlio Certo Ne ho quattro Di figli Praticamente I cani Ma però Non è molto carino a dire Nei confronti Dei tuoi figli Che sono dei cani No Continua a giocare Siamo Che qualcosa Appena ha spunto Da Picardius E riporti vita Qualcata serie Come E per Escape Ma è un po' Improbabile Per Escape Perché appunto Crash Bandicoot Ha fatto 21 milioni Di copie vendute I classici Quindi è Invece Per Escape Ha fatto Un milione E poi gli altri Tutti meno Cioè Per quanto Sarei felice Perché per Escape C'ha Un gameplay Molto figo E originale Ma Grillo Chi Beh per Grillo No Grillo Quello I grilli Che c'ho in camera Che mi rompono Il coglione Il figlio di Chantal È Super Marco 2001 È un po' Inquietante Come cosa Prendi questo Che è mio È mio È mio No Di più No Rocket Come si chiama Si Chantal Hai un figlio E si chiama Grillo Beppe Grillo Cacchio Come hai fatto A fare un figlio Così più vecchio Di te Ma che ne so Si sta inventando tutto Vai No L'ho fatto male Hanno spesso La Sony Hanno fatto una live Su Nico Nico Di Ape Escape E hanno rivelato Tutta la concept art Doveva essere Un RPG fantasy Inizialmente Ma che cazzo Meno male Che la concept art È cambiata Vabbè Ha fatto Ape Forse ci sarà interesse Ma Ha fatto Un Ha fatto Ape Quest Che era un RPG fantasy Ma iniziano a questo L'Eco che sono morto Vaffanculo Qualcuno mi ricorda Come si prendono le vite In questo gioco qua Che è l'ultima E se la figlia Di Chantal Forse Si ma che cazzo Ha successo ZAN 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 Minta la sciatata Ci si è partorita Da sola Incredibile Sarà un pack On World 4 Per oggi maltrattati Come Aspetta I parenti Non è Non è Non ho mai giocato Un pack On World Però Chissà Leggi La sciatata In realtà Vuoi più bene A Luca Che a 4 Sciatata Non te l'ho mai detto Oh si Prima pure ha scritto Una cosa simile E non dovevo dirtela Io sono stata Zitta Si l'ho letta Infatti Tentativi inutili L'idea è molto Al vapore Aragosta Al vapore Mi fa ricordare Pizzicottina Dei Simpson To Piano In tal Ciao Alessandro Ma arcane tu sei uno speedrunner Di Apescape O sei solo mega fan Vediamo se risponde C'è in realtà È una speedrunner Di ogni gioco Si Andate al mio canale Vedete Tutti i giochi del mondo Iscrivetevi Ragazzi Stanno Non è Ma tu sei Ma è una vecchia Merda Che va nei park E direi ragazzini Guardate che i cani Non seponno Stacca Avete capito Il pio Che No Non seponno Stacca Avete capito Li pio Io Se no Non ho capito Un cazzo Mamma mia Ma c'è un altro Scimio Qua sto girando a vuoto Ogni persona in questa live È un figlio Piglia di chantal E che cacchio Ho partorito così tanto Ho partorito 42 spettatori Ma che ha 4 Che dice porca puttana Ah non lo so Ah non lo so io Ah non lo so io Ho detto La parola da speedrunner Cos'è No Necco lo è Sono solo mega fan Dice Ah e fai anche fan art Aspetta un secondo Oh è il terzo oggi In caso mi dici Dove le poste fan art Che mi interessa Sai Eh vabbè Mamma mia Quando faccio le live Non vanno per coglioni Grilli Ma è possibile Eh lo sai Vogliono partecipare Eh saltandomi addosso Però Appunto Poi mi fanno Eh ma no I insetti Non ti fanno niente Al meglio dal microfono Beh hanno fastidio Gli insetti Lo so Danno fastidio pure a me Specialmente se volano Tranne le farfalle E le coccinelle Brava Poi quella roba Porta fortuna Quindi Ma se ma Super ma come uno Fosse F and Fox Sì è fisicamente Molto possibile Ah c'è uno congelato La Vedo vado a uccidere Centà non far finta Di non capire un cazzo Tu lo capisci benissimo Lubaesano Proprio perché Sei nata nel 25 Sì sì Sono così vecchia Io Ma cosa è tipo Il napoletano Credo Mia madre A cattà K 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 Il napoletano È quello Per me Sì certo Io non lo capisco Il napoletano Ma io non capisco I dialetti Al di fuori del mio Beh se è un dialetto Molto stretto Credo che nemmeno Io lo capirei Mia madre alcune volte Tira fuori qualche Parola Ma niente di troppo stretto Poi avevo pure le zie che venivano qua Mamma mia Eccola lì Minchia È possibile che un grillo voli così tanto Io sapevo che saltavano E basta Vabbè Ciao Sav 3.0 Ciao No onestamente i grilli volano o saltano solo No saltano Guarda che questo qua vola Mi sa che non è un grillo a sto punto E a quanto pare Che palle Un ritorno inaspettato Crash Bandicoot No Io sono Patrick No No io devo trovare un posto in cui andare Qui mi sono perso Patrick Ehi pescaper migliore Sì Santa l'hai detto? Allora forse non l'ho trovato Ah su twitter Peccato Perché non ci sto lì Eh vabbè Peccato Se no ti seguivo da qualche altra parte Non so se era facebook Che avevi una pagina O tumblr E tei Vientate Io ho parenti toscani Ed è bellissimo Sentire le loro bestemmie Usate come virgole Come le virgole Ah a me piacciono molto Mi piace molto l'accento toscano Siamo le bestemmie Sì le bestemmie Mi piacciono molto le bestemmie No proprio l'accento Ma infatti Se avessi la possibilità Mi trasferirei in toscana Solo per l'accento Aspetta in chat ci sta una Che si chiama Centa luce E per caso La stessa di Deviantart E tumblr Sì Sono quella Sì sì Sei famosa vedi Sì su Deviantart E' un altro nome Però sono io Che bello Sono famosa Dov'è quel bastardo Mi piace sta live Viste divertita a veder Avescape Mi divertita a veder F-Block Ammazza i grilli Ah Tarantino Ah non è full tumblr Peccato Se vola potrebbe essere Una cavalletta Eh sì Potrebbe essere Ok Fan del male alle persone Cavalletta Che sono ignoranti In queste cose Oddio Si è stupito Che mi ha trovato qui E sei famosa Centa Che bello Vabbè Sono sono contenta Ma non è che mi gaso Faccio cose strane Al momento No Annaltenza sui grilli No ma se sono cavallette Ho diritto a ucciderle Mi dice se le cavallette Fanno male alle persone O no Che non lo so Beh non fatemi cercare Mentre sto giocando App escape Sì il toscano Sì il toscano è molto bello Però il torinese Lo è di più Non l'ho mai sentito Veramente quello Forse l'avrò sentito Ma non l'ho collegato Ah l'ho capito Dopo c'è Devo cercare io Se le cavallette Se le cavallette fanno male A essere umane o no Vuoi che guardo io Eh sì magari Vediamo Ma non credo Teoricamente non dovrebbero fare del male Cavallette fritte Ma cosa No quelle no grazie No quelle se le mangiano i cinesi O qualcosa di simile Sono pure sull'orlo dell'estinzione Eh io collaborerò all'estinzione Allora Allora No non dice niente su veleni O cose simili No Non so basta che mi mangio un dito No non ti possono fare niente Ok Allora non possiamo Sono solo cibo per uccelli Ah ok Dragon Ball Quando arriva a DJ Firenze a maggio È bella Sì è vero Firenze è molto bella Io l'ho visitata quest'anno Cioè l'anno scorso A novembre Mi è piaciuta moltissimo Specialmente la sera Ok grazie Sav3 Per avermi detto Che le cavallette Sono innocue E che io infatti In roba naturalistica Sono un po' Penoso Sì sì Ma ho guardato pure io Non dice niente Sulle cavallette Quindi Non ti ucciderà Questa notte Ok Più l'altro Solo deve essere invaso Dalle cavallette Che cazzo è Sono animali estivi Io non ho mai visto Il cavalletto in vita mia O ne vedo Non viste quattro Solamente stanotte Io sapevo delle cicale Che sono estive Commentatori di Daniele Domanda per voi Preferite i cani o i gatti È la domanda più importante Di tutto il mondo C'è la domanda più importante I cani e gatti Io? Sì Teoricamente mi piacciono Tutti e due Però la predilizione Per i cani Ma non perché rimane E dai Questa scimera in me Putin dice gli orsi Allora quella scimera È peggio Delle cavallette Meglio i dog Preferisco Chantal Sì certo Allora intanto Vado a vedere Quanti cani Ma Chantal è la preferita Di tutti vero? Meglio i procioni Adotta quella cavalletta Di dice quattro Sì L'ha adotto Nel senso che Boh non lo so Nulla di buono Gli dai la cuccia Gli dai la ciotolina Con l'acqua Gli dai il cibo Gli do da mangiare Ok adesso lo cerco Io faccio incontrare A un mio amico uccello Quello c'è la magna Ah vedo che Ci sta molta gente Che adora i gatti Vabbè Ma non perché li mangia Ciao Alex01 Ciao Bravo Bravo Abbiamo capito Che scimera stupida Adesso lo cerco Così sei contento Anche perché Infatti se no mi dimenticavo Pa No che dice Alessandro Non dire ste cazzate I cani non si toccano Manco con un dito Dai chi tocca un cane Proprio per me È morto C'è un cane in palestra mia Che Che mi odia a morte Ogni volta che mi vede Mi cerca di mordere il culo Porca Ma dipende da come è stato trattato Ma non so che cavolo C'ha contro di te Questo cane Eh no Che c'è problema della mia moto Comunque è stato maltrattato da piccola Quanto mi ha detto A perdona Quindi magari anche per quello E allora è normale Se è così Eh ma Adesso sinceramente parlando Chi cazzo è che mette il cane in palestra La palestra non è mica fatta per i cani Perché tiene il tuo cane in palestra Nella tua palestra Ok ho visto questo Francesco Ferrarese Molto bravo devo dire Se la cava molto bene Nei chiaroscuri Con la matita specialmente Che è una cosa che io Non ci riuscirei mai Che preferisco colorare in digitale Quindi complimenti al tuo amico Che se la cava benissimo Oh anche quegli acquarelli Veato lui che ce la fa Io voglio una scimmia Come animale domestico Oddio che bello Una scimmia Io adoro i cani di scimmie E le tartarughe Le tartarughe sono sempre belle Mamma mia Ultima vita Come cazzo ci prenderà Nevi questo gioco Sto trovando in giro Bene ancora devo trovarne una I cani sono tutti buoni Dipende dal padrone E come li addestra Esattamente Esattamente Perché sono come Appunto dei bambini Dipende da come li cresci Per esempio Il padrone là Dei cani razzisti Li ha cresciuti molti bene Molto bene Mentre i miei cani Che sono cresciuti con me Sono dei bonnaccioni Non mordono Non attaccano Ti fanno le feste Anche se sei un ladro Questo non è ancora molto bello Ce la facciamo Che cazzo Io mo salvo ogni volta Perché non voglio perdere I punti vita Già sono accorto Non ho più vita Red vuole una schigna A me piace un sacco Come l'opettore Alessandro Ricci Quindi anche meglio Ricci è vero Un animale Che non voglio Come domestico È La cavalletta Gli insetti in generale Non sono un granché Dei topini Non sono insetti Sono dei topini Ah che carino Un pipistrello Una volta ero andata Dal veterinario Per portare il cane Ed erano arrivati Cioè una bambina Che teneva una scatoletta Molto piccola Con all'interno Due dischetti Sai per il viso Che facevano Da copertina Per questo cucciolo Di pipistrello Era molto molto piccolo Molto bello Una mia amica Un porcellino Come animale domestico Fa strano No non fa strano Conosco certe Persone nel mondo Che tengono appunto Come animali domestici Porcellini Anche che non sono D'India Alla Alle Galapagos C'è una testugine Vecchia di quattro secoli Ma le tartarughe Marine Quelle giganti Sono tutte Tutte belle Anche la matamata Perché se ti morde Ti fa Proprio male Infatti Allo zoo C'era il rettilario Stavo Fermo lì A guardare Le tecche Con i cerchetti Archive ti fa Chantal Punto esclamativo Ah Che c'è Ma mi viene da adesso Che vuoi Io lo so Il pappagato Che ripete tutto Vero Daniele Ma a me piacciono I pappagalli Sono carini Sì è vero Avete mai visto Il pappagallo Che canticchia La musica di Final Fantasy Quella che fa Non so Fischiare Io vedevo I pappagalli Che si muovevano A tempo Con la cresta Quando sentivano La musica Che carini Ciacobo La musica di Ciacobo Se io non avessi La paura Dei volatili Me ne terrei uno Ma fare Sarebbe figo Se Crash Bandicoot Esistesse Nella vita reale Un Bandicoot Con jeans E scarpe Che fa versi strani No? Penso che qualcuno Sarebbe spaventato Sarebbe morto Eh sì Il pappagallo Che ripete Eeeee Ah devo salutare Ciao Archive Archive Spero di averlo detto bene Archive Ok Scusate Scusate Archive Scusami Adesso diranno Hai una pronuncia Adorabile Adesso diranno Ma una pronuncia Che fa schifo Io ho avuto dei gatti Dei canarini Prima dei cani Pure i canarini Sono molto belli Una mia amica Ce n'ha uno Che è obeso Cioè una palletta Da tennis Praticamente Poverino Dovevo dare Meno da mangiare No ma No è forte Che cerca di volare Ma alla fine Non ce la fa E plana Atterrando A me fa una cantina Poverino Beh però Lo vedo sempre attivo Nella gabbietta Quindi Boh Una vita Non ci credo Per voi I mostri marini Esistono? Sarebbe una figata Se esistessero Ma non lo so Non mi sono mai posto Una domanda Ma io sono sempre Patita Delle creature Mistiche Queste cose Tipo Le sirene Il kraken Tanta 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 Non lo fa Non lo fa durante la notte Però Comunque questi qui Forse sono cavalletti Gli altri genitori Non so che Ma c'è la cavalletta Ah non lo so Io gli insetti Non Eccola lì Quel bastardo Porca puttana Che Appena scende O il grillo No La cavalletta grillo Ah ok La cavalletta grillo È meglio un maiale Con i vestiti da Gesù Cosa? Beh È una bestemmia Se non ci arrivi Ah Ok Davvero non l'avevi capito Che è una bestemmia No Non l'avevo capito Sono molto ingenua Santana Anche i gufi Non sono male Sì I gufi Sono molto belli Ma appunto Ho il terrore Dei volatili Per i loro becchi E gli artigli Una volta in Toscana C'era un posto Un castello Dove ti facevano tenere O un palco Sul braccio O un gufo reale Molto bello Però Avevo troppa paura Del gufo Nonostante sia bellissimo Allora ho provato il palco Mia madre Che mi faceva la foto Mi vedeva Che avevo il sorriso Molto forzato Per la paura Che questo palco Mi aggredisse O scattasse Insomma Un po' il terrore Ce l'ho Anche se sono fighi Preso Non c'è problema Tecnicamente il kraken Esiste Sta in Giappone Ah sì C'è questa Sottospecie di animale Che è molto più grosso Di tutti gli altri Sì sì Cacciatori di cavallette Su D-Max Con Daniele Sì Tipo Bear Grylls Ammazzare le cavallette Le caccia Che le mando via Sì Goku scimmione Come animale domestico Sì ti distrugge casa Tipo è Goku scimmione Somma che non può tornare a normale Insomma Che castello era Oddio Questo non lo so Mi ricordo che stava in Toscana Questo me lo ricordo Ma il luogo esatto Devo chiedere ai miei genitori Perché loro lo sapevano Voi non potete capire La mia fobia dei cani Quando ne vedo uno Vabbè Se hai una fobia Ok Ma non devi gridare Ah Gli ammazzerei tutti Quello no Io pure Ho la fobia degli uccelli Ma non dico Che devono morire tutti Gli esseri umani Porca Gli esseri umani Sono cattivi Quello è vero D'accordo Se siete esseri umani cattivi E vi piace la mia live Iscrivetevi Una lancia Se siete in quest'ora di qua Iscrivetevi Mi raccomando Che Se le fate Siete delle brave persone Ma sì Sono tutti bravi persone Eccoli Io invece sono un bravo Contadino Andato in mezzo ai giochi Vaffanculo Se ci muore là dentro Non posso fare più niente Da come è morto Però che schifo Mia sorella più grande Una volta tenuto sulle spalle Un pitone Che figo Io non ci ho provato Perché mi faceva impressione Proprio che avete visto il video Che avete visto il video Che ho provato Su Facebook Ho parlato Con essendo di ci Perché non ti prendo l'idea Di un'intervista Ehm Boh Ma non sarebbe male Fare l'intervista E tutto Il fatto è che appunto Quando c'era di fare l'intervista Non si fece trovare molto disponibile Allora dopo Due o tre volte E ho detto Vabbè Se devo rompere le palle Lascio stare Porca puttana Questa scimmia col fuoco Sì ecotrip Tanto lo sapevo Che avresti fatto Una cosa del genere Hitler aveva la fobia Degli ebrei Eh Esatto Io ho la fobia di Daniele Cosa? Gigi ha detto Io ho la fobia di Daniele Stanno Meno male Ha detto che gli insetti Fanno schifo Gigi Anzi Vede per il culo Quando Quando urlo per gli insetti No Francesco Cosa mi ha ricordato Cosa ha detto? Ciao Francesco Lucci No no è una cosa di feelings Della mia infanzia Notte È notte Oramai Tardi È tardi Lo sai Mamma mia Super 3 Lo rivolgo Cos'è Super 3? Era praticamente Quel canale Di Del Lazio Che trasmetteva I cartoni animati Degli anni 70 Anni 90 Che alcuni Non erano nemmeno Censurati Pesantemente Anzi Si vedevano Tranquillamente Bello Però l'hanno giù Italia 7 gold Del Lazio Insomma Sì Telenorba Era bellissimo I fantasmi Esistono? Probabile Piero 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 Mingola Io La farei anche Benvolentieri Intervistare Sanorici Però Ho visto comunque Che Che L'intervista D'Angelo Coro È venuta Molto meglio Di come Io avrei potuto Farla Per dire Quindi Casomai La si fa fare A Aiuto A qualcuno Più bravo Di me No Dice DJ Che Nel senso Che mi fai Paura Tu Daniele Ah ok Mi dispiace DJ Io pensavo Siamo amici Invece Vabbè Pazienza Va a dire Che adesso Sono amico Con Chantale No Che Chantale È mio amico Maschio Adesso Il mio amico Vabbè Non è la prima volta Che mi Mi danno Il suffisso Maschile Dai Perché Daniele Che fai Jumpscare È vero Ogni volta Che Che tira un urlo Balzo dalla sedia Ebbè Ho una voce Molto Molto potente Molto potentissima Snagwe Ciao Alex Notte Notte Ciao Aspetta un merondo Iscrivetevi Se non vi iscrivete Vi mando Le 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 cavallette A casa Ti prego No Ecco La Lì La Scimmia Di Merda Veni qua Scimmia Del Cazzo Minca Pesca il 4 Dove Spike Cattura Le cavallette Chantal Come regalo Di 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 Faccio Svenire In bagno Con I Jumpscare Ma Anche No Chi si Coda Wipeout Su K2 Wipeout Su K2 Aspetta Voglio Cercarlo Perché Su K2 Vedevo Spesso Molti Cartoni Wipeout Non ci ha mai fatto un cratone Che io sappia Vediamo C'è scritto K2 Ah No no Quanto pare Si c'è Ah Si si Commentato da Lil e Greg Come Takeshi Scaster Ah Figo Ma come si Eh lo so Francesco Salvi Hai ragione Dovevo leggere La tua versione Modificata Ma Ah no E' vero Ma do Che Wipeout E' anche Tipo Una roba Con L'acqua E cose del genere Ho fatto il collegamento Adesso Eh beh Se non mi dice Wipeout Io penso al gioco Quello della Playstation No A quelle altre cose Vladimir Putin Iii Come puoi dire Una cosa simile E' vero Dinosauri Della Dingo Picture Bei tempi Che poi tu non sai Abbiamo A Firenze Abbiamo visto Delle magliette In un distretto Dove c'è tutta roba Di moda Molto Chic Insomma La faccia di Iii No No Praticamente Aveva questa maglietta Aveva un design Di un gatto Ma era talmente brutto Che mi ricordava Uno di quei Gatti animati Dalla Dingo Picture Ah ok Non è veramente lui però No però te lo giuro Era uguale Ugualissimo E lo guardo Ti dico Quindi la gente Spende Quattrocento euro Per quella maglietta B Mamma mia Come cazzo Ci faceva Questo cosa Era qualcosa Di assurdo Eh La Gli angelo Poguardo Io ho adorato La pollietta Che ci scassa Sì anch'io Mi piaceva Moltissimo Dani fai le magliette Snague Cacchio Le faccio Veramente Le metto anche In vendita Ci guadagno Un sacco Di soldi Adesso lo prendo Sto Bastardo No Ezza Non ne ha cavato A stag Scimmia di Merda Merda Sì Cosa ne Cosa Pensereste Se esistesse Davvero Un Jurassic Park Penso Sarebbe La cosa Più Figa Che ci sia Io Amo I dinosauri Spike Merdina Mi ha rubato Di nuovo Il portafoglio Dio Ridammelo Indietro A caso Era il gatto Di Dalmata Nell'inquadratura No No Era un gatto Era No Aspetta La pantera La pantera Nera Del Il re leone Due Praticamente Della dingo picture Quella lì Se Rete respira Vai No Non so Se Rete respira Iscrivetevi Ho respirato Iscrivetevi Ecco Capito Iscrivetevi Tutti A seconda di Tutti Quei respiri Molto interessante Ciò che dici Finalmente lo stai facendo Finalmente lo stai facendo Grazie È contento Tutti siamo contenti Quando torna Dagonball E quando torna GJ Eh sì Se torna GJ Perché potrebbe essere anche morto Non lo sappiamo No Io vedo che qua commenta Quindi Quando torna Ecco Lascia un po' di suspense Per i nostri Seguitori La pantera rosa Cosa Ragazzi Cosa hai pensato La vostra opinione su Chantal Cosa No Qual è la vostra opinione su Chantal Da gente che si è segnata la live Voglio che siete sinceri Eh Infatti Veramente Preferisco la sincerità Le cazzate Si ha pure il mento a culo Porca È il capitano Quark Sì Esatto Va li partiamo con tutta la vita Va Abe Escape sarebbe il pianeta delle scimmie per bambini Eh un po' sì Vedi nessuno sta andando la opinione su di te Chantal Ciao Giulio Pazzeo Eh va bene La terra era stata attaccata da Machimbu se non lo sapevate Ok Ciao Giulio Minosauro Bastardo Capitano qua Di merda Che merda Chantal quando pensi di tornare nella provincia gigliata Eh Chantal è un bel canale No è un bel caviale No è un bel caviale È sempre un bel caviale Ok Chantal sembra una donna Ma che bel complimento Chantal è molto più simpatica di Ikari Ma no dai Eh lo dice lui perché è Perché è suo fratello Chantal puoi leggere il mio commento sopra a Dani Eh Io sono dove? Perché sono sopra io adesso Non ho capito Chantal è la migliore Ma che carino Quattro Mica falli di sweep Affanculo cosa Comunque per il fatto della provincia Io la Toscana al massimo vado a Firenze con i miei amici Se va tutto bene Poi è tutto Come dire Disorganizzato Non sappiamo quando Come muoverci Eh provincia di Firenze ho capito Eh ma io vado al massimo in quella città Ahia Mannaggia La faccia di Chantal So la faccia di Chantal Hihihi Eh mo tutti quanti Ti andranno addosso A dire Mandami la foto Mandami la foto Beh Eh La curiosità della gente Porta questo Le uniche foto che ho messo Su internet Sono io Che faccio il cosplay Infatti Ma manco io l'ho mai vista Senza cosplay Cioè sentavo il vestito normalmente Ok Leggo il commento che hai scritto prima Un attimo solo Che lo cerco Dani Comunque È Yuchi Con la I Ah ok Bene Spero che sei contento così Yuchi Chi è che è il nome suo? Ha scritto solo questo Quindi non so esattamente Ma come si chiama lui? Mi so Francesco Yuchi Eh lo è il suo nome Avete mai visto I fantaeroi? Sì Ma non mi fanno impazzire All'inizio l'ho guardato Dopo un po' Ci ho proprio perso Perché è stupido Troppo Troppo stupido Onestamente parlando Chantal pare una brava persona Ma poi se nella vita reale Stronza al massimo Gli bruciamo la casa Eh Ok Certo È logico Ma io ti ho visto a Lucca Ma che cosa Quando mi hai visto a Lucca? Io ne avrò visti tanti a Lucca Ah Oh ce l'ho fatta Aede dice che ci ospita a Firenze Cioè nella provincia Dove sta lui Evviva Tutti a casa sua Cattuiamo so bastanti Sì No Ma perché oggi Chantal Si sente così tanto? Perché non c'è DJ Infatti DJ è quello Che rompe le palle E coppe la voce di Chantal DJ stai fuori dalla nara No non c'è sempre parlare lui Perché lui è quello Che legge i vostri commenti Stasera lo sostituisco Io fino a quando Non arriva Tranquilli Io penso Che sarà una microfida Di odio per bambini Di odio Per bambini Che in realtà Nasconde i corpi Nel seminterrato Lei ha mandato super marco in live Solo per testare nuove possibili Frede Tss È pelata È pelata Dani saluti Un mio amico Va bene francesco Iucci E io ho detto Luci È quello che Comunque francesco Non sei la prima persona Che mi vede In una maniera brutta A scuola Mi vedevano come una serie Al killer Facevano sogni bruttissimi Su di me Dove ammazzavo gente Figurati È giusto È giusto È giusto Uccidere la gente Cosa buona È giusto Ok Jay è il male Shantali il bene E danni la rizzata pazza Credevo che scrivessi È il molto bene Ok È il molto bene Il molto bene Però dovrete Dovrete stare al terzo piano E non c'è problema Fare un po' di scale Non fa mai male a nessuno Mo c'è quello di riformire Un pochino Perché ha detto Che tra un po' C'è la base di Spectre Magari è la scimmietta Che non sia la protagonista Ah ok Ho capito Intendeva che Si sente più la mia voce Rispetto alla tua Red Ah ok Perché sto giocando Qualcune volte Pure lui ha letto I commenti Mentre io Mi facevo uscire i cani Ero in Minchia C'era un entai Con le banane È tornato Il bastardo Aspetta Mo che adesso scende Lo faccio fuori Ah ti sei appoggiato Sei furbo tu Sei molto furbo Penso che Chantal Sia una catiuscia Che distrusse Berlino Nel 45 Super Marco Il 2001 È un esperimento Di cane Di Chantal È riuscito male È un esperimento Di No È un mio esperimento Di cane Cioè io stavo Creando un cane E mi è venuto Super Marco Ci è bastato Dani Saluteresti Daniele Rossi Con un Dannazione Dannazione Daniele Rossi Ciao La funzione tra me E Luca Rossi Daniele Rossi Ho vinto un biscotto Anche se in realtà sono tre Boh Siamo pronti per Spectre Dai Detto che sono piccina La base di Spectre Non credo che sia L'ultimo livello Come fa il nemico Dei Power Rangers Quando esplode Dalle montagne No E boom Poi Ciao Andrea Lanni Non so perché C'è scritto solamente B nella cosa Ma va bene Ma altrimenti Sta facendo un po' male La chat Di Di cosa Avrà problemi Streamlabs Che comunque Il link a streamlabs C'è in descrizione Se qualcuno vuole Donatre Siete molto bravi E Shantan Non si sente più Perché Ha lasciato spazio a te Ah ok Apposta Ciao Ciao Dani Sto scando Su Crash Per PS1 Su PSP Hai Crash 1 Per la PSP Minchia Ti durerà poco Quella PSP Shantan Alternavano Appunto Che facevano La trasmissione Di questa conduttrice Sonia Che leggeva Le lettere Dei bambini E dicevano Il mio cartone preferito È questo Vi adoro Sonia e Birillo Che Birillo Era un robot Che stava lì Che mandava i bacioni A tutti i bambini E poi c'era L'angolo delle chiacchiere Che invitavano I bambini Con le loro lettere E parlavano Dicevano Qual è il tuo animale preferito Qual è il tuo cartone preferito Era molto carino Oscar Frau Allora Jimmy È il nome americano Icaro È il nome giapponese E Francesco Yuchi C'è Shantan Che non vuole leggere Fanfiction Quindi mi sa Che rimarremo senza Sorry Ma se Se a te va Posso leggerlo Poi non vi lamentate Se non leggo i commenti Avrò così Che Shantan Legge le sue stesse Fanfiction Oh va bene Lo faccio eh Lo faccio Per me non legge Due minuti Dopo vuoi smettere già Se siete d'accordo D'accordo Leggo le mie fanfiction Siete contenti Ditelo nella chat E allora vado Sei sicura Shantan Non c'è problema Tanto sono fanfiction Alla cazzo Di quando avevo 12 anni Ma io ti voglio bene Non puoi farti questo Eh vabbè dai Il controller mi ha abbandonato E' scaricato E' meglio ridere Dei propri errori passati Piuttosto che Nasconderli E piangere Di quelle cazzate In questo posto C'è la prossima saga Che inizia Sarà Apexcape E poi quando Poi vedo quanto Sta sul precision store Apexcape Non c'è sullo store Noemi C'è solamente il 2 Sulla 4 Però se vuoi Ti ho la mano Impostato un po' di emulatori Vai col trash Tutti sono contenti Di questa tua scelta Shantan Leggi Leggi Ok Tutti dicevano Che il loro cartone preferito Fosse il Mago Pancione A me faceva schifo Eh ma il Mago Pancione Era Tranquillo Diciamo Non faceva né schifo Né era Uno spettacolo Alla fine Secondo te Qual è la meme Più potente Luca Rossi O la terza Di Twin Sanity Ma quella di Twin Sanity Se la cava molto di più Anche perché Un giorno Poteva succedere davvero Se so che ti insiste Così tanto Con sto cazzo di meme Qui dopo Non mi sentivo Mai più parlare Ma la devo trovare Quella Con la fanfiction Dai secondo te Qual è il livello Più difficile Di Crash 1 Stare nel Stormy Ascent Io ho di livelli Del ponte Quei ponte Sono stronzi Ma alla fine Basta Basta insistere Un po' E E andare Di bug Della corda Per me È abbastanza stronzo Coso Secondo Che mi viene in mente Quello tipo Stormy Ascent Però in Slippery Climb Ma io non istigo La pirateria Allora Non sono sgrammaticate Almeno quello che mi ricordo Stavo abbastanza attento Alla grammatica Il no sense C'è però Quello sì Quindi serve Accontentate Tanto Ma comunque io Gli emulatori Non sono illegali Comunque De Destroyer Sono legalissimi Gli emulatori Poi se tu giochi Sua metà giochi Che non possiedi Sei tu Quello che fa Cosa illegale Mi chiacchia Ha fatto l'emulatore Andate Aiuto Cosa Facce la musichetta di Andate Dove la so sognata No pure tu Pure tu Cosa Tutti quanti Scambiano la canzone Che canta un personaggio Di Steven Universe Ah mo è vero Ah si Ma no Eee Stronger than you Vedi come cazzo si chiama Eh non è colpa mia Io Steven Universe Non lo so mai cagato Ma non sei l'unico Lo fanno tutti Tutti È che non mi viene in mente A me Steven Universe Sento quella cosa Sento Andate Le non mette sta parate Andate No Steven Universe Eh lo so Ma lo so che non l'ha inventato Undertale Però È che ho detto Una musichetta familiare Che non sentivo da secoli Ho detto Ma è Undertale E le fanfiction Porca miseria Le fanfiction Saltal Sicuro di volerle leggere Oggi non esco più a parlare Oggi non esco più a parlare Andiamo un po' Sono abbastanza storti livei sul ponte Sì Pure quelli sono abbastanza antipatici Senta Salutami i tuoi cani Perché lui li conosce dal vivo No? Ah ok Chi è che l'ha detto? Sav 3 Sav Ehm vabbè Purtroppo non sono qui con me Sono fuori Quindi appena rientrano Quindi appena rientrano glielo dirò Elettromagnete vai Guarda Guarda abbassa il gioco Se in realtà comincia a leggere Please Voi fai video contro le live Le fanfiction di Chantal Guarda che pericoloso No rispondeva uno che mi ha chiesto Di abbassare l'audio del gioco Se tu ti metti a parlare A cantare Sì vabbè A leggere Finalmente Ho bisogno d'acqua Ah vi avverto Non ci sono descrizioni Sono tutti dialoghi Io leggo la prima Il primo capitolo Fra virgolette Poi Ehm Non lo so basta o altro Perché Non è che c'è molto Facevo solo cose Allora Iniziamo Eh noemi qua hai trovato Scusami di Eppescape Se dici sopra i 4 C'è il 2 Ma è l'unico Vai vai Vado? Ok Sì Il titolo è Come sono finita Nel laboratorio di Cortex Ok Dovete sapere Che Cortex stava elaborando Come sempre Un nuovo piano per distruggere Crash E i suoi amici Con questo piano Riuscirò a liberarmi Di coeroditori Per sempre Engine Aziona lo Psychotron Ehm Capo Si è rotto Quando ha cercato di spedire Crash In un'altra dimensione Se ne è dimenticato? Hai ragione Allora ricostruiscilo tu Engine Confaccina triste Porca putta Due ore dopo Bene E' tutto pronto Un fascinatoiste Si perché mettevo le fascine Almeno potrebbe dirmi grazie per quello che ho fatto Non dire stupidaggini Adesso grazie allo Psychotron Te ne trasporterò qui a Evil Crash Per mandarlo a distruggere il vero Crash Si sicuramente funziona A un certo punto Arrivò Nina Che aveva sentito tutto Zio ti ricordi che ci è successo La prima volta che abbiamo incontrato Evil Crash Come farai a convincerlo Senza farti mordere? In qualche modo farò Lo immaginavo Cortex azionò lo Psychotron E mentre si nascondeva dietro Engine Vide un'ombra apparso al centro Della macchina Eccolo Eccolo Nina Prendi il guinzaglio Ma al posto di Evil Crash C'era una ragazza molto alta Con i capelli ricci Che si guardava intorno E bestemmina Ma Ma che cazzo è successo? Ma che cazzo Ma che cazzo Capo Non si dicono le parolacce in questo topic Me ne frego di quello che non posso dire Perché c'è una ragazzina E non Evil Crash Ma Ma tu sei Cortex E voi siete Nina e Engine La ragazza corse verso di loro E li abbracciò Non ci posso credere I miei personaggi preferiti insieme a me Signorina stiamo soffocando L'ho sempre detto che l'amore uccide Nina ti ricordi cosa è successo l'ultima volta? Oh scusatemi E che sono così emozionata di vedervi dal vivo Come ti chiami? Mi chiamo Chantal E sono una vostra grande fan Praticamente hai fatto come Tag Team Racing Esatto Che bello Una minatrice Beh spiacente mia cara Ma oggi non diamo autografi Quindi ora te ne torni nella tua dimensione Capo servono altri cristalli per riportarli a casa sua Gigi è il protagonista del fanficio E mai Chantal però che sei il fanficio no Gigi Capo servono altri cristalli per riportarli a casa sua E allora vai a cercarli dagli altri imbacille Mamma mia Chantal che rompe la quarta parete Che scrittrice Mentre Quarte Lava per un matto Chantal e Nina stavano già diventando amiche A caso Senti zio perché non la teniamo qui con noi A caso Neanche per sogno Sogno Allora facciamo per votazione Chi vuole che io resta in questa dimensione Alzi la mano E Chantal, Nina e Angie inalzarono la mano Mi dispiace zio Ma a quanto pare il destino che tu perda sempre Ancora è tutto questo racconto xd dice Però è una fanficio che ha scritto lei a 12 anni Appunto Quindi scrivevo cazzate No vabbè me ne vado Mi sta seguendo tutti i pori Perché sempre Ecco quella ragazza è molto carina E Cortex con faccina arrabbiata Idiota Intanto Nina faceva da guida la nuova arrivata Per farle vedere tutto il laboratorio Ecco come sono andate le cose Fine Fine Ma che cazzo è sta fanfiction Non ci posso credere Cheat Aldo Baglio Mi dispiace Non so che voglia dire sta cosa Non ci posso credere Sì ero Cioè più che altro egocentrica Ehm Ognuno Qualsiasi ragazza Desidera essere presente Con i propri beniamini Qualsiasi Te lo posso garantire Solo che C'è chi Non lo pubblica Su internet E ci come Chi come me Ha 12 anni 13 anni Che lo fa Spudoratamente Senza pensare al fatto Che sei un po' egocentrica Stai pensando solo a te stesso Infatti successivamente Verranno inseriti Alcuni dello staff Del crash zone Quindi Ciao 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 A caso E' una citazione a cloud No non finisce così Nicola Conta che Allora Non mi ricordo Sono tipo 62 capitoli Quindi No no Non sono 62 capitoli Solo che Fra commenti degli altri E I problemi che ho avuto Con il forum Perché mi hanno cacciato Sono arrivate a 64 pagine Ah Non ce l'ho andato lontano Con 60 64 pagine Solo di commenti E altre cose Perché i capitoli Proprio tanti tanti Non sono Ma sono brevi E sono di cazzate E tutti di altri Volevi diventare un bandicoot Chantal No no Non volevo diventare un bandicoot Praticamente Ero arrivata lì Nel laboratorio E facevo cazzate Ecco E picchiavo cortex E tiravo fuori La motosega A caso Noemi dice Che anche a lei è successo Diventarsi come protagonista Nel Ecco vedete Nel suo storio orrende E' una cosa Allora dei maschi Non lo so Ma delle femmine E' certo Lo potete vedere In qualsiasi Fandom Qualsiasi Ciao Crash Stefano Anche se Non so Perché mi ha detto Di salutare Non che lo sta guardando La live Aspetta Chi Crash Stefano Mi sa che Del crash zone No so Che è che Stefano Lo so Mi commentava sempre I video Ah ok E' uno che si è La piaccia vita Solo per osta Se mi ricordo pure Come ti hanno cacciato Allora praticamente A quei tempi Al crash zone Questo forum Non c'era Il gioco di ruolo Ovvero Tu fai il personaggio Scrivi il dialogo In ogni commento E fai un'azione Questo è il gioco di ruolo Lì non era accettato E allora tutti quanti Io E coloro che mi seguivano Praticamente Ho fatto una setta Ecco Abbiamo deciso D'andarcene Ci hanno cacciato Ovviamente E abbiamo creato Un forum Tutto nostro Ma è andata A puttane Super Marco Dice Chantal vai da Analista Ma avevo 12 anni Infatti Lo dice Super Marco Chantal La renditi conto Appunto Che nella stella E faccia tipo Che sei il suo amore E cose così Red una creepypasta Su Chantal Una volta Sono andato a Lucca E ho incontrato Chantal Il problema È che Chantal Era vestita Da Da qualcosa Di To Che non so Chi è Però aveva un Maceto in mano Ha cominciato A ammazzare La gente E quindi Ho detto Minchia In jean E poi Evviva Fine creepypasta Mi piace Creepypasta Bellissima È spettacolare L'ho presa una E non trovo più Le scimmie di merda Sembra che ci sia Un'altra qui Solo a me cosa Mi si è bloccata Si è bloccata La live No Io la continuo A vedere Eeeh Ma è il mio Ma ragazzi Con solo 12 anni No non le faccio più Ste cazzate Poi sinceramente È meglio adesso Che ho capito Che ho fatto Le cazzate Piuttosto Che la gente Che ha 24 anni Continua a farle Eh Si si diverte così E si diverte così Non mi dire che hai cambiato idea Non può finire una leggenda così La leggenda di super Marco È spettacolare Ne ho presa una Di fanfiction E la sera Con il mio nipotino Mi diverto come un matto Oh Dio Te lo dice un youtuber Da 6.000 iscritti Tu lo sai quella cosa Chantal Cosa? Che c'è uno youtuber Non so neanche chi è E non voglio ricordarmi Perché lo pubblicizzo pure Che commenta tutti i video Anche se sono video brutti Anche se sono video così Anche se un video lo so Tipo tutto nero Con scritto Mi titolo 110 E lui ti commenta Sempre lo stesso commento È spettacolare Te lo dice un youtuber Da 6.000 iscritti Continua così Oddio veramente si è una persona simile Si Oddio Ovviamente sembra che ha qualcuno Con più iscritti di lui Non scrive niente Però Aspetta Quindi super Marco Si fa la fanfiction Su Chantal Tanto 20 mesi È No È Sono maggiore Quindi niente può dividerci Ni niente può dividerci 20 mesi Cosa? 20 mesi Sono quasi due anni Vericamente Si ma Non conta eh Non c'entra la maggiorità O quello che è Ma si ma l'importante È l'amore che c'è tra voi Ma quale amore Ma quale amore La creepypasta su Chantal Un giorno entrai in una live di Daniele Con la sciupa fuori Chantal Ma non era tutto normale Aveva una voce molto triste Depressa Parlava solo di cose molto creepy Eh qualche volta accade eh Eh non nelle mie live almeno No nelle live no Sono molto allegra Alcune volte con le mie amiche Parliamo di cose creepy Con la voce tutta depressa Così Sta triste Cazzo sono le scime I suoi livelli Oh siamo a 50 spettatori Come è successa sta cosa È successo che c'è la fanfiction È vero la fanfiction Ha permesso tutto ciò Solo Chantal può fare tutto so Chantal super super Saiyan Dove cazzo è Che sono andate queste scimmie di merda Comunque mi devi ancora imitare Richard Benson Ma io tu Ehm Stai mi deve venire una frase Cacchio ne dice tanto Cazzo è sto cosa non fa più Ah ok adesso l'ho ripartito Chantal attenta a casa Potrebbe spuntare sotto il letto Super Marco Non c'è mai paura Mamma C'è un mostro sotto il letto Ma no cara Non c'è nessun mostro C'è solo Super Marco Mi sembra giusto Dice Luca Rossi Si si fa attirare molto dalle voci Si vede Super Marco ti piacciono i doppiaggi Perché? Eh ma non so Magari è una persona che viene molto attirata dalle voci Così allora Per quello che gli piace così tanto Ah Ma devi vedi che funziona eh A volte che la voce basta Chantal is love Chantal is life Ci guarda il vettore per la scimmietta La vista che è molto kawaii Sicuramente non è mi Sicuro che è per quello Ok Mo Niente qui Ma no tu non vuoi serve una gialla per fare il 100% Eh non mi ricordo sai Un pollo Io Crash 1 ho giocato poco e niente nella mia vita Praticamente adesso l'ho finito per via della Trilogy Se no non l'avrei mai finito nella storia Vabbè l'ho finito da piccolo si ok ma Non l'avrei mai rifinito nella storia Invece Crash 2-3 metri di gioco a cazzo di cano a volte Che hai pensato di dar un po' super Eeeh 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 Altalenante Diciamo A tanti pro e a tanti contro E vedi che a su me mago piace il doppiaggio E per quello Eeeh Eeeh E' una cosa del subconscio Gli piacciono le voci C'è poco da fare Vabbè pure a me piace il doppiaggio E beh si ma dico E' così attanto perché appunto mi piace la voce tua Allora per quello Ah ecco Ho trovato il posto in cui dovevo andare Ok C'è gg lo faccio entrare Eeeh Finisco il livello E poi lo facciamo entrare perché facciamo king piccolo Perfetto ok Comunque ragazzi visto che mi state seguendo così tanto siete bravi Siete bravi Eeeh Mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi perché è importante Così potete vedere le mie prossime live I miei prossimi video e il mio prossimo tutto Quindi iscriversi please Santal continua con le fanfiction Ma basta un capitolo direi Non credo che vogliamo No no devi farle ancora adesso secondo me Non è un po' che Mentre con snaggo e tutti li devono Così quando c'è la fanfiction tu a tutti zitti Ma veramente? Sì neanche un commento nulla L'unico è stato super marco che ha detto Che devi andare in clinica tipo Eh non lo so Tanto i capitoli sono molto brevi e sono tutti dialoghi E sono tutti diversi Vai giù Eh tutti diversi Faccio solo cazzate E una citazione è una cosa che nessuno ricorda Cioè il Beh magari ci sono tanti ricordi Quello che su Italia 1 c'era la musichetta Na 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 Nel piano dei cantoni c'era il tizio che diceva Una descrizione breve del cartone Oddio sì è vero E c'era quella dei pokemon che era Che era Sono tanti colorati E tutti diversi Arrivano i pokemon Mamma mia Quel tutti diversi La breve introduzione Mamma mia Nostalgia Mi è rimasto in testa per tutta la vita Quei tutti diversi E sono tutti diversi Red hai guadagnato 3 iscritti in 3 ore Grazie mille per il support Ha una grossa pistola Ok Il calmato di pescaip 1 Arrivano i fanfiction E fischio di livello e poi chiamano DJ Che tanto dobbiamo cambiare Ah sì che non avevo capito Perché vedo in ritardo In revenge of king piccolo Eh ti avviso io tranquillo Arrivano i geni che sponsorizzassi Sono tante sono belle Ci sono tutte le fanfiction di Chantal Woot Non volete vedere Andare a comprare un libro Fare tutte quelle operazioni Complicatissime Qui basta andare nel Crash Zone Cercare Chantal Woot E sono lì Sono lì che vi aspetta Sembra quasi di fare la gara Sembra quasi di leggere una fanfiction Fatta da una dondicenne Leggi subito Cerca subito Vai fia delle tue fanfiction Sono tanti Sono colorati E tutti diversi Arrivano gli umani Sono colorati Tanti colori Bianco e Vabbè E giallo Vabbè che cinesi Dato mi manca poco alla fine di sta cosa Oh ragazzi so che siamo in 50 tipo Io leggo 40 E un po' cambiamo gioco E metto su Revenge of Kim Piccolo Con le mod parte 2 Perché è DJ Quindi mi raccomando Se siete interessati Rimanete sintonizzati Anche alla fine di questa live Che poi E per scherzo Lo fisco poi domani A cazzi miei Anche magari Visto che comunque manca poco A quanto ho capito E quella è l'ultima scimmia Se non sbaglio Spremmo che sia l'ultima scimmia Su ragazzino Convinci magari Ma Ok non è l'ultima scimmia Qual è l'ultima di qua Oppure artigiani Che sponsorizza DJ Perché sponsorizza DJ Mancano cosa Una scimmia mi basta bene Una scimmia mi basta Per vincere Presa Ok Mi hai fatto prendere un colpo Rimortacci tua Ma io sono il miglior screamer del mondo Ok allora rimanete sintonizzati Che tra po' facciamo con Il secondo capitolo Lo leggo alla prossima live Che è arrivato a un poco Vabbè che siamo concentrati su Walter Adesso salvo No no io dico domani Domani No dai un po' E dopo mi tocca a stare sui Fino alle 2 Eh dai tranquillo David Best Intanto dormire non serve Guarda me Non vado a letto prima delle 3 Da Elementari Ahi le orecchie Io voglio doppiare Spike Nella mia vita Ok Quindi adesso finisce questa live Ci vediamo nella prossima In cui facciamo le mod di Revenge of Kim Piccolo Dove c'è anche DJ Che è quel tizio che ha la voce rilassante Quindi ciao Se non siete iscritti iscrivetevi Continuate a seguirci Se no ci vediamo domani E mi raccomando E mi raccomando Viva Chantal Non so E le sue fanficio Ciao E per escape E un bacione Un ciao Da Roberto Attigiani Forza eh Ciao 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 a tutti i nostri amici Ciao a tutti i nostri amici Ciao a tutti i nostri amici